Buongiorno a tutti, benvenuti in Urban Center questa mattina all'evento organizzato da Panakes Partner Investimenti nelle scienze della vita per un futuro migliore. Do il benvenuto alle start-up che sono qua presenti, ringrazio il dottor Fabrizio Landi per la partecipazione, ringrazio anche la dottoressa Serena Tonell, vice sindaco di Trieste, per essere qua con noi e per portare i saluti dell'amministrazione comunale. Passo la parola, prego. Grazie Mirne, Marco Dalferro, buongiorno a tutti voi. Sono lieta di aprire questa giornata di interessante confronto e di portare i saluti dell'amministrazione comunale del sindaco Roberto Di Piazza e di dare il benvenuto al dottor Landi che ci pregia della sua presenza qui. Ringrazio soprattutto il gestore dell'Urban Center che una volta di più dimostra un estremo fermento dell'attività, ma soprattutto di interpretare al meglio quello che è il mandato che l'amministrazione comunale ha assegnato a questo luogo, che è quello di creare rete, creare occasioni e opportunità per le start-up insediate. Voglio ricordare come all'inizio di questa avventura c'eravamo posti degli obiettivi, dei target e in questi due anni di attività abbiamo presentato i risultati non meno di due o tre giorni fa e abbiamo ampiamente parlato del fatto che questi risultati sono stati superati e brillantemente superati raggiungendo appunto anche degli obiettivi maggiori di quanto erano le aspettative. E questo effettivamente è dovuto all'intenso lavoro che è stato fatto, tra l'altro in un tempo di pandemia, quindi anche in un tempo non facile e di questo andiamo assolutamente orgogliosi e ne siamo soddisfatti. Questo, come detto più volte, è un luogo dove vogliamo creare sempre di più il contatto tra il mondo della ricerca e il mondo dell'economia, far sì che la presenza degli enti scientifici che abbiamo sul territorio come vantaggio competitivo possa essere sempre di più un valore economico, non solo per Trieste, non solo per la regione, ma per l'intero paese. Abbiamo forse un'aspirazione molto alta, ma ci crediamo e stiamo lavorando convinti con questi obiettivi che, come dicevo appunto, stanno dando davvero dei frutti molto positivi. e questo non sarebbe possibile naturalmente se accanto al pubblico che ha avviato questo progetto strategico non ci fossero dei partner privati altrettanto motivati e interessati naturalmente a percorrere questo percorso insieme. collegata vedo Elisabetta Borrello che ringrazio appunto per la sua presenza costante e per aver davvero interpretato al meglio questo ruolo che abbiamo assegnato come Comune di Trieste all'Urban Center. Abbiamo appunto creato un luogo dove le start-up possono insediarsi, ma quello che vogliamo anche fare è fare in modo che queste start-up oltre a vederne la nascita vorremmo anche vederle crescere, vederle consolidarsi e diventare sempre più solide. Sappiamo di avere dei partner importanti al nostro fianco. In primis la regione, si parlava prima con il dottor Landi di questo e degli strumenti che la regione Friuli Venezia Giulia sta mettendo in piedi strumenti e risorse che sta mettendo in piedi per sostenere il cluster scienze della vita come un settore strategico di crescita della città e della nostra regione ma appunto grazie naturalmente anche ai privati che si affacciano e studiano ed eventualmente colgono anche le opportunità che si stanno mettendo a disposizione. Quindi grazie davvero a voi che questa mattina vi confronterete su questi temi e approfitto naturalmente per farvi gli auguri di buone feste ma soprattutto di augurare un 2023 ricco di obiettivi raggiunti per ciascuna delle start-up insediate ma anche per tutta la nostra città e per tutta la nostra comunità. Grazie ancora e buon lavoro. Dico solo due parole ringraziando molto Serena Tonella e l'amministrazione comunale per la lungimiranza con la quale ha impostato questo progetto dell'Urban Center. Mi scuso molto di non essere a Trieste, voi sapete che io sono più volentieri a Trieste che a Milano ma oggi creo questo ponte virtuale, l'amico Fabrizio Landi è stato da noi proprio nel momento anche del trasloco. Adesso Fabrizio lo vedresti un po' più andato avanti. La settimana prossima ci trasferiremo anche a Piano Terra. Qui in questa finestra che ho dietro le mie spalle io sono oggi in un laboratorio perché stiamo ancora lavorando in modo non così strutturato in termini di spazi però abbiamo il Galeazzi, di fronte a noi abbiamo l'albero della vita e l'Human Technopole avremo a breve l'Università di Milano. Questa sarà una cittadella di 60.000 persone grande quindi come Pavia, dedicata all'innovazione, alle scienze della vita in particolare ma all'innovazione per il nostro paese e non solo a 360 gradi. Questo che creo oggi è un primo ponte virtuale. Con Serena ne abbiamo tante volte parlato e ne parlavo anche con Fabrizio nella sua visita qui da noi. Fabrizio Landi ci ha tenuto a battesimo il 22 febbraio del 2018 al MUDEC adesso faremo l'inaugurazione con lui degli spazi qui al MIND 22 febbraio 2023 come ho già comunicato al Presidente della Regione e alla Serena Tonelli, all'amministrazione comunale. Mi farebbe molto piacere pensare, ma ci sono anche percorsi procedurali, autorizzativi e di evidenza pubblica, ma mi piacerebbe tanto pensare che queste due regioni che per un verso la Regione Friuli-Venezia-Giulia naturalmente con i numeri e Strong Innovator in Italia e con i numeri di start-up, di ricercatori, di istituzioni e la Regione Lombardia che ha altri numeri ovviamente più grandi perché è una regione più grande ma messe insieme possano veramente riuscire a far crescere nel nostro paese quel sistema di innovazione e per noi che ci occupiamo di scienze della vita, di farmabiotech, medtech, digitalet riuscisse a far partire questo comparto che credo possa essere veramente un punto di forza del nostro paese naturalmente sempre in una chiave internazionale e Trieste ci aiuta anche per questo con quell'asse dei Balcani sul quale noi come Bio4Dreams stiamo già molto lavorando e abbiamo anche start-up, diceva prima Serena Tonella abbiamo superato gli obiettivi li abbiamo superati direi sia in termini di eventi di contaminazione funzionale dove abbiamo messo in collegamento l'industria, la finanza, le istituzioni, la ricerca e le start-up dove abbiamo fatto in due anni circa 320 raggiungendo più di 10.000 persone ecco l'urban center ormai si connota come un punto nevralgico direi nel sistema dell'innovazione triestino e il merito va tutto all'amministrazione comunale, all'ingegneranza con la quale ha costruito questo progetto noi Bio4Dreams e i componenti dell'RT sono come dico spesso le braccia, le mani direi forse anche un po' la mente che aiuta per portare avanti tutto questo spero che i nostri laboratori di ricerca condivisi che Fabrizio ha già visto qua popolati al Mind possano esserci anche in quel terzo piano che auspichiamo in Urban Center a Trieste e credo siano un grande valore aggiunto per le start-up. Non dico altro, lascio a voi e mi scuso ancora di non essere lì ma sono lì col cuore e con la mente. Grazie mille Elisabetta e grazie mille Serena per la presentazione e per i saluti. Prima di dare la parola alle start-up che evidentemente sono parte importante dell'evento di oggi, grazie, volevo presentare al dottor Landi l'ecosistema di start-up che sono attualmente presenti in Urban Center. In Urban Center sono attualmente insediati 19 start-up e tutte appartengono ai due settori di riferimento dell'Urban Center ovvero il digital high-tech e il bio high-tech. A loro volta le start-up sono divise in cinque filiere di appartenenza la filiera dell'ambient assisted living o del digital health, la filiera biomedicale della diagnostica, la filiera della terapia innovativa, del digital e la filiera nutraceutica. Le start-up insediate hanno la possibilità di accedere a dei servizi che i gestori dell'Urban center mettono loro a disposizione. Questi servizi sono sette ma sono divisi macroscopicamente in due categorie. La prima categoria sono dei servizi che vengono erogati a tutte le start-up indistintamente che sono il supporto per le attività, la condivisione bandi, supporto all'attività di grant office e la comunicazione. Altri servizi vengono erogati on demand alle alle start-up che lo richiedono. Ricordo che i servizi sono erogati alle start-up così come l'insediamento è a titolo gratuito. Una recente analisi ha permesso di evidenziare come maggiormente i servizi che richiedono le start-up sono il supporto all'attività di networking industriale principalmente e un supporto all'attività di fundraising e questo evento si va a collocare pienamente all'interno di quest'ultimo settore. Infine un altro aspetto che emerge è che le start-up insediate all'interno dell'Urban center interagiscono fra di loro e questo ritengo che sia un ulteriore valore aggiunto che porta al centro. Le start-up si parlano attivano progetti e sinergie e l'auspicio è che questa attività possa ulteriormente crescere nel corso del 2023. Un'ultima cosa che volevo sottolineare lavorando a contatto con le start-up è che il percorso che stanno compiendo all'interno dell'Urban center è un percorso di crescita. Le start-up in questi ultimi sei mesi di presenza stanno maturando, stanno crescendo e ancora all'auspicio che possano ulteriormente diciamo crescere e progredire nel loro sviluppo. Allora senza dilungarmi altro vorrei lasciare la parola alla prima start-up che abbiamo invitato oggi a presentare, Margherita De Angelis, prego, che è cofondatrice di Nanovent, una start-up che applica la tecnologia del 3-day bioprinting alle cellule staminali. Prego, Margherita. Allora, la presentazione va da prima. Quando vuoi scendere con la slide, vai in qui. Io sono Margherita De Angelis, la fondatrice di Nanovent SRL. Nanovent è una start-up innovativa fondata nel 2020 che si occupa di biotecnologie, nello specifico il progetto iniziale, il progetto pilota che ha fatto poi nascere la start-up è relativo al mercato odontoiatrico nel settore dell'implantologia. Il progetto è nato principalmente da un'esigenza reale in ambulatorio a contatto stretto con il paziente. Sono state poi unite le esigenze dell'utente finale con un'idea di innovazione e il risultato è stato quello del progetto sulla creazione di protesi dentali biologiche realizzate con cellule staminali e stampanti 3-D per materiale biologico. Quello che accade ad oggi per il settore implantologico è ancora con materiali metallici. Il lavoro è molto invasivo e anche abbastanza impegnativo sia per il paziente che riceve l'impianto che per l'odontoiatra e il medico che deve operare ed è stata quindi creata questa soluzione innovativa sia per materiali ma anche per una condizione proprio di risultato e anche di proprio intervento, percorso dell'intervento. Mettere un impianto dura dai 9 ai 10 mesi al momento e ci sono varie sedute e quant'altro. Con questa soluzione le sedute vengono ridotte ad una. Appunto l'implantologia viene svolta attraverso l'innesto di una vite in titanio all'interno dell'osso, un moncone sempre in titanio che viene inserito successivamente, si parla di 4-5 mesi anche dopo, e poi una corona che viene fatta o in zirconio metallo ceramica. Sono tutti materiali biocompatibili ma comunque sia non naturali. La soluzione che ha voluto realizzare Nanodent è quella appunto di creare questo oggetto, quindi un impianto che sia una condizione unica, non più divisa tra viti, moncone e corone, ma è un elemento completamente unico. Appunto realizzato la parte interna in dentina e la parte esterna in smalto. All'interno, nell'ambito diciamo così radicolare, quindi la parte che va all'interno dell'osso, viene sviluppato come la testa di un impianto per aiutare l'osso integrazione. Quindi sono state unite tecniche nuove, con materiali nuovi, con migliorando ma prendendo, partendo dalla base che era già buona della tecnica attuale. Il progetto è stato reputato un progetto distractive nel mercato perché cambierà totalmente il paradigma, quindi il mercato dell'implantologia. Sappiamo tutti che per l'utilizzo di cellule staminali ci sono delle norme, quindi al di là di quello che posso realizzare a livello scientifico c'è una parte normativa che è importante, che poi è quella che mi fa andare o meno nel mercato, sul paziente e quant'altro. Quindi è stato realizzato appunto questo progetto, con questo prodotto, assolutamente all'interno della normativa dell'utilizzo di cellule staminali. Quindi vengono utilizzate le cellule staminali, tra virgolette, come degli operai, per poi il tutto realizzato verrà poi decellurizzato in modo che di cellule staminali non c'è più traccia, quindi non c'è possibilità di mutazioni o quant'altro che si sentono insomma tantissimo. Al momento sto finendo di realizzare il prototipo, anche con tecniche ancora innovative, perché realizzo delle basi gel che non esistono, che non trovo nel mercato. Ho unito con dell'incapsulazione di fattori, il rilascio di fattori di differenziazione diversi per i due materiali diversi, quindi dentina e smalto, partendo dalla stessa linea cellulare. Quindi c'è tanta innovazione anche nel procedimento di creazione. Sono in fase di arrivo per il deposito di un brevetto, sia di processo che di prodotto, di questa condizione. La condizione ancora vincente è che attraverso questa tecnica si può riuscire a intervenire in una condizione di percentuale maggiore rispetto a quella che è possibile adesso in implantologia, nel senso che per poter mettere un impianto c'è la necessità di una condizione ossea adeguata. In mancanza di osso l'impianto non si può mettere. Nanodent con questa tecnica ha creato la soluzione anche di intervenire a livello osseo, nel senso che se c'è perdita di osso e quindi non si può fare l'impianto, Nanodent può creare anche la sezione ossea con il dente già inserito da poter andare a innestare. Inizieremo la sperimentazione clinica tra 8-10 mesi per l'innesto appunto di questo nuovo impianto. Nanodent con questo progetto pilota ne ha in cantiere altri, quindi sulla detartrasi e quant'altro perché svilupperà proprie soluzioni sempre più innovative e biotecnologiche per il campo il campo odontoiatrico. Con questo progetto Nanodent ha partecipato a vari bandi tra cui Horizon nel 2020, l'ultima con il 7 di ottobre dove Nanodent era nata da poco, da dieci giorni proprio per presentarsi. Però nonostante questo, quindi che mancasse la struttura perché Nanodent era solo la presente, ho ricevuto dei voti importanti, cioè anche l'uno, un excellent per l'innovazione, l'idea, il mercato identificato e quindi è stato reputato un progetto importante non solo a livello scientifico e innovativo ma anche come identificazione di mercato, cioè che c'è una buona possibilità. I competitor che non sono competitor comunque perché i competitor che ci sono sono le aziende produttrici di impianti e si pensava di creare anche delle interazioni o delle sinergie con queste ditte di impianti che potevano fungere da distributore. ho avuto già dei primi rapporti dove ci sono due aziende, una italiana e una estera che si sono dimostrate interessate al progetto sia ad acquistare tutto il progetto o comunque eventualmente a collaborare e quindi fare da distribuzione. Quindi potrebbe essere per Nanodent una condizione importante e anche come rete commerciale. È un progetto eh che svilupperà mh diverse linee di business quindi la vendita diretta eh della condizione quindi dell'impianto già fresato ma anche la possibilità di aprire sia dei franchising che dare la possibilità al dentista di muoversi in autonomia. Verrà creato un software apposta per creare la la il disegno della protesi, la morfologia che andrà eh specifica sul paziente. E Nanodent fornirà questi cubetti creati, il laboratorio di dentina e di smalto che il dentista con una piccola fresatrice, un programma software potrà fresare come già fa eh giornalmente con le nuove tecniche di provvisorio o zirconia appunto stiamo lavorando anche su un nuovo progetto quindi di sostituzione di quello che è eh il lavoro della detartrasi quindi la pulizia dei denti che sono quarantacinque minuti molto fastidiosi quindi abbiamo in cantiere una nuova condizione per sostituire anche quella parte lì. Io vi ringrazio. Buona giornata. Grazie mille Margherita. Allora invito eh la prossima startup Alessandro Pozzato che è domande perché se no poi me le devo ricordare tutti gli stessi tecnici perché se posso facciamo magari le domande no? Va bene. Chiarissimo l'idea ovviamente parliamo di un mercato estremamente grosso ha un'idea dei costi ha un'idea dei costi? Sì. Perché oggi ad esempio in Italia quindi non so che poi c'è la concorrenza lo costa croata o slovena insomma in Italia mediamente l'intera operazione costa circa tremila euro. Sì dipende dal dal punto di altro. Il costo di quello del chirurgo che innesta e il costo poi del dentista che fabbrica e monta no? Tremila così. Sì. Più o meno no? Sì. Non ho non ho in testa i costi eh dei due oggetti cioè l'impianto e poi la lavorazione no? Ma ipotizziamo che siano la metà costi di questo? Sì sono un pochettino di meno. Meno della metà? Sì poi dipende. E lei come costi questa tecnologia permetterebbe di essere equivalente più cara meno cara? Eh questa tecnologia nella condizione finale eh è una tecnologia che va allo stesso prezzo di una una tecnica impiantologica compreso di materiali di vite di livello alto. Ok quindi ci sono ad esempio impianti quindi eh nello specifico solo la vite che va interno all'osso che partono dagli ottanta euro quindi mediocre quindi. Ma infatti lei giustamente cita tanta gente a cui si stacca l'impianto no? Sì. O che rompe l'osso e questo fa uso il tema delle andate in Croazia no? Sì. Invece una Strauman ad esempio che ha le viti che comunque sono di qualità molto alta e solo la vite costa trecento ottanta euro al dentista. Quindi l'utente finale per l'utente finale che è il paziente il costo dell'impianto varia dai duemila e cinque ai tremila e tremila e cinquecento euro. Per nano denti il cliente è il dentista quindi ho creato una condizione dove eh il prezzo totale del che spende il dentista tra vite e moncone e corona sia provvisorio che altro del lavoro dell'odonto tecnico e tutto tutti questi prezzi messi insieme di un valore alto ovviamente hanno lo stesso prezzo della protesi di nano denti considerando che con la protesi comprata da nano o che si fa o che si fa lui perché lei ha parlato anche del fatto che come oggi il dentista poi c'è l'odonto tecnico che le realizza con i materiali realizza la protesi no? Sì. No del dente finale. Ok. Sì perché poi eventualmente con la realizzazione del kit tra virgolette sarà diverso quindi il il dentista volendo può acquistare da nano dento fresatrice e programma e nano den continuerà a mandare i cubetti. Ok quindi il suo obiettivo è di dare eh perché come sempre in questo mercato le ci sono tre ipotesi una soluzione è un problema che non ha soluzione e non è una soluzione è un problema che ha soluzioni di migliore qualità ha una soluzione che costa meno quindi lei diciamo lo biore di nano denti è quella di avere una soluzione di migliore qualità con gli aspetti che che ha spiegato. Sì. E e e e e così via. Sì. Considerando che nelle protesi nano dent servono solo due sedute per un impianto tradizionale vanno dalle nove se va tutto bene alle dodici tredici sedute quindi il dentista ancora. Che solo due sedute perché lei deve. Perché è un elemento unico non vanno condizioni quant'altro quindi nella nell'implantologia tradizionale il dentista mette la vite poi ci vogliono tre bar a quattro mesi per la nostra integrazione. Poi cioè è un lavoro. E poi arriva al dentista anche di io stesso sono separati cioè il fiulgo che fa l'impianto. Sì. E la vite dopo tre quattro cinque mesi arriva il dentista che. Prima mette il moncone poi vede di guaragione poi cioè è un processo. Le prove eccetera eccetera. Esatto. E e però queste prove quindi queste dodici dalle nove dodici tredici quattordici sedute per il dentista sono comunque onerose. Certo certo. Perché occupano la poltrona o riunito. Eh lei sa ci sono delle altre aziende che stanno ipotizzando cose del genere? No al momento no. Abbiamo fatto anche a livello mondiale delle ricerche di mercato per depositare il brevetto che sta depositando Buignon S.P.A. che è un'azienda di quindi al momento no non ci sono soluzioni uguali. Per questo che il progetto è stato considerato. Lei usa lei usa le staminali per fare cosa la dentina? Sia dentina che smalto. Ok. E usa staminali che ha geneticamente modificato? Io uso eh mesenchimali dalla polpa dei denti che regolarmente acquisto dalla lonza con tanto di certificato perché così posso prendere da qualsiasi parte le cellule ma eh visto che comunque devo andare nel mercato e non fare solo ricerca e quindi deve essere tutto assolutamente regolare quindi le cellule sono eh comperate con tanto di certificato da lonza. Chiarissimo grazie. Grazie a lei. Grazie Margherita. Invito Alessandro Puzzato che eh amministratore delegato e cofondatore di Nano Phoenix start up che si occupa di diagnostica. Grazie a tutti. 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 Grazie Alessandro Puzzato ehm cofondatore e amministratore delegato di Nano Phoenix. Ehm Nano Phoenix è una start up di recente costituzione eh siamo stati fondati nel a marzo di du mila ventidue. È una start up che come eh spesso dico abbiamo ha forti radici nelle nanotecnologie. In particolare in particolare per quanto riguarda eh tutte quelle tecniche e tecnologie di micro e nano fabbricazione eh che fanno parte del nostro background del nostro expertise microfabbricazione in camera bianca eh alle quali associamo però anche un know how eh del know how forte da parte del team eh per quanto riguarda le biotecnologie e le bi e i biosensori e la biosensoristica. È una start up come dicevo eh di recente costituzione ma che abbiamo già pensato fin dall'inizio di eh diciamo ehm costituire su diverse sedi eh le prime sedi sono qui a Trieste proprio per il legame anche con eh gli istituti di ricerca nel campo del scienze della vita. Eh prossime sedi saranno sicuramente eh a Trento per dei legami con siti di microfabbricazione lì presenti eh importanti siti di microfabbricazione e certamente abbiamo un grosso legame con Milano grazie a Bio4Dreams che è il nostro eh socio cofondatore a cui ci appoggiamo chiaramente per l'organizzazione, lo sviluppo, lo sviluppo, lo sviluppo, il piano business. Come dicevo andrei a un po' a definire qual è il nostro asset. Il nostro primo asset è sicuramente eh è legato al nostro know how. Know how nella ribadisco micro e nano fabbricazione perché eh beh nei nostri eh il team ha costituito questo know how nel tempo grazie a lavori in accademia e poi anche in eh nel privato in aziende private eh un know how legato alla fabbricazione per quanto riguarda la modellazione delle superfici delle dei materiali e dei dispositivi. Si tratta di eh l'inserimento di micro e nanostrutture sulla superficie della realizzazione di micro nanostrutture sulla superficie di materiali diciamo come il silicio ma anche più eh di uso comune come le plastiche i vetri chiaramente eh perché se ne andiamo a realizzarle? Beh innanzitutto perché queste possono portare a un'amplificazione delle proprietà della del materiale stesso come ad esempio la modificazione dell'energia superficiale o della bagnabilità della eh dell'adesione dell'adesione ad esempio di cosa? Delle eh delle cellule. Abbiamo visto attraverso anche dei progetti in diciamo nella nostra vita precedente in accademia che ehm superfici eh nanostrutturate con opportuni design di pillar o di linee come diciamo in silicone fanno sì che le cellule staminali crescano eh in determinato modo eh si differenziano in determinato modo eh non solo le superfici ma come dicevo prima anche i dispositivi e i dispositivi nel senso che noi andiamo a realizzare dei lab on chip di veri propri lab on chip quindi dispositivi a partire dalla microfluidica sempre su vetro siliconi ehm plastica in genere con tecnologie sviluppate con tecnologie sviluppate anche da noi per quanto riguarda il la modellazione della del dispositivo e poi in particolare la sensoristica sulla sensoristica ritorniamo soprattutto dopo con i nostri prodotti in fase di realizzazione. ehm dicevo eh grazie a questo know how che è il nostro primo eh vero asset ehm abbiamo pensato di eh costruire un business model ehm diciamo caratterizzato da eh su due due aspetti diciamo il primo è quello dei servizi con il quale siamo già sul mercato cioè dal giorno della fondazione in pratica eravamo già sul mercato eh servizi per quanto riguarda la realizzazione di come detto hm superfici per culture e la realizzazione di eh lab on chip dispositivi microfluidici e biosensori per chi eh li andiamo a realizzare diciamo customizzati per i nostri clienti clienti che sono in tutto il mondo mh abbiamo anche recentemente filmato degli accordi importanti come vedremo in seguito eh però la nostra ambizione non è fermarsi e fermarsi ai prodotti ma eh realizzare qualcosa di nostri il primero eh eh di nostro nostro eh il primo eh legato a uno eh a uno sviluppo della piattaforma per la ehm eh una piattaforma per la eh eh la Katia significa di microRNA in biopsia liquida con eh una piattaforma tecnologica che ci permetterà poi eh di sviluppare dei eh prodotti mh dei singoli prodotti che i primi in pipeline sono denominati di Come detto, perché vogliamo arrivare ai prodotti? Perché pensiamo che comunque questa sia l'evoluzione corretta della società nel giro di alcuni anni e questi sono già in sviluppo ad oggi. Come dicevo, certamente i servizi dal primo giorno eravamo già sul mercato e per noi sono importanti, servizi che abbiamo stimato a livello anche di ricavi per i prossimi quattro anni, servizi che ci permettono di ricavi che ci mantengono in equilibrio con i costi attuali che abbiamo. Il team è ancora abbastanza moderato e ci appoggiamo a facility esterne per quanto riguarda la realizzazione, però queste proiezioni abbastanza equilibrate, abbastanza moderate, diciamo che piacevolmente stanno per essere stravolte. Per il semplice fatto che già recentemente sul campo, sull'ambito degli elettrodi e biosensori abbiamo formato un grosso contratto con una, grosso insomma per noi, con una startup americana del valore di 162 mila euro, già qui recentemente, il mese scorso. E ne abbiamo anche altri un paio di contratti che stiamo portando, siamo in una discussione molto avanzata, siamo quasi in fase di chiusura per quanto riguarda l'abbono chip, uno ad esempio anche nell'agroalimentare e non solo nel healthcare, per un valore piuttosto consistente. Confidiamo di poter chiudere addirittura per i 700 mila euro. Quindi, questo, in questo momento i servizi sostengono la società e con un po' di fortuna le sosteneranno anche molto bene, diciamo, in questi prossimi mesi, oltre gli anni. Però, puntiamo alla realizzazione dei nostri prodotti, che siano fortemente caratterizzati dal nostro know-how di micro-nanofabbricazione, associato ovviamente alla biotecnologia. Il primo che stiamo già sviluppando, abbiamo già fatto gli studi di fattibilità, è quello che abbiamo chiamato Polymer, che è una piattaforma tecnologica per la detection di microRNA da biopsia liquida. Come dicevo, allora, questa piattaforma, perché? Perché il microRNA? Perché il microRNA, queste piccole molecole, single strand di RNA, costituite dai 20 ai 24 nucleotidi, sono associate a molti processi biologici, alla regolazione di diversi processi biologici di interesse. L'interesse per quanto riguarda, ad esempio, lo sviluppo di tumori o le disfunzioni cardiache, quindi l'art failure, oppure le problematiche cerebrovascolari. Questi microRNA hanno dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, i studi che sono stati portati avanti, hanno dimostrato come siano importanti nella diagnosi di queste problematiche, di queste disfunzioni, ma anche nella prognosi e, cosa importante, anche nella risposta alla terapia. Anche questo è una cosa molto importante. La loro forza, soprattutto, l'essere molto selettivi, l'essere molto specifici, l'essere dei biomarcatori ideali, se vogliamo, con molteplici applicazioni. Però hanno ancora, dal punto di vista dell'applicazione clinica, delle problematicità riguardo alla loro manipolazione, al loro costo, ai metodi di misura, chiaramente, da utilizzare, e alla necessità di sviluppare anche dei sistemi di saggio standardizzati. Quindi, il nostro obiettivo è, ovviamente, superare queste problematicità, per andare a sfruttare i loro componenti e gli aspetti più importanti. Noi stiamo, quindi, mi scuso, diciamo che ho un po' coperto questo slide, perché, realmente, siamo sotto brevitazione. In questo momento, quindi, noi vogliamo realizzare, stiamo già, insomma, per sviluppare questa tecnologia label-free, come qui descritto, in real time, estremamente rapida, molto sensibile per la detection dei microRNA da biopsia liquida. Il primo, possiamo pensarlo come primo prodotto, la piattaforma. Però, noi non ci fermiamo alla piattaforma, ma andiamo anche all'applicazione. E con due applicazioni che abbiamo già individuato, questi saranno i veri primi due prodotti, per quanto ci riguarda. Quindi, una prima applicazione nella detection dei marcatori di microRNA legati al tumore colono rettale, che abbiamo chiamato Biomir, come POC, perché alla fine si tratta di un diagnostico, che è un point of care. E l'altro, secondo prodotto, che abbiamo intenzione di sviluppare in parallelo, è il PulseMir, che è legato alle disfunzioni di tipo cardiaco. Quindi, all'individuazione, alla detection in early stage dei microRNA legati alle disfunzioni cardiache. Questo perché? Beh, chiaramente, per quanto riguarda le disfunzioni cardiache, è una delle prime cause di morte prematura. La parte, comunque, la sopravvivenza, diciamo, è sempre un po' limitata, tra virgolette. E per quanto riguarda anche il colono rettale, anche lì ci sono le probabilisticità legate, ad esempio, ai metodi di esame, che sono piuttosto invasivi. Quindi, vi ricordiamo, mi scuso, non l'ho detto in precedenza, che il nostro sistema non è sicuramente invasivo, essendo la biopsia liquida, quindi si va ad analizzare fondamentalmente i liquidi biologici, il sangue, nel nostro caso il plasma. Per quanto siamo andati ad analizzare il mercato, piuttosto imponente, sia per quanto riguarda l'applicazione Balmir, che l'applicazione Palsmir. E andrei soprattutto a sottolineare perché, diciamo, un key point per quanto riguarda il nostro dispositivo. Soprattutto che non è invasivo, come dicevo prima, in particolare rispetto a colonoscopia o endoscopia in generale, ed è quantitativo ed è un early stage per quanto riguarda la detection. Noi ci siamo costruiti la nostra roadmap. Allora, al momento di studio di fattibilità l'abbiamo già realizzati. Abbiamo, quindi siamo già un TRL3. Abbiamo una fase di R&D, di prototyping, per quanto riguarda la piattaforma tecnologica, il Polymer. Perché Polymer? Perché basta cambiare la funzionalizzazione e possiamo andare a detectare altri tipi di microRNA e quindi a soddisfare altre indagini fondamentalmente. In un paio d'anni, quindi, arriveremo a TRL5 per quanto riguarda il Polymer e poi ci applicheremo, ci dedicheremo alla parte di validazione di circa un anno o due anni per riguardo le due applicazioni, Biomir e Pilsmere. Abbiamo deduato per quanto riguarda la richiesta dei fondi, attorno ai 300.000 euro per il Polymer, dal punto di vista della realizzazione, per arrivare al prototyping, e un 250.000 a testa per quanto riguarda la validazione dei due diagnostici dedicati. Per quanto riguarda, sì, direi che questa slide ho un po' già descritto, perché ho detto gli anni, insomma, che ci servono, e andrei direttamente, a parte, come dicevo, i rapporti con i vari istituti, soprattutto in zona, a sottolineare il team che, come evidenziato nelle slide precedenti, dovrà essere chiaramente incrementato, però un team già adesso molto variegato tra biotecnologi e fabbricatori. Avrei anche concluso. Grazie. Grazie Alessandro. Se Fabrizio ha qualche domanda? Ovviamente, giustamente, non avendo visione sull'approccio tecnologico, non ho molto da commentare, nel senso che, come lui sa, ci sono decine e decine di società nel mondo che stanno parlando a fare la stessa cosa, ma forse più vicine a centinaia che a decine. Unico suggerimento, dato che è molto complesso, e se funziona, funziona bene, io tenderei a focalizzarsi su uno, o esattamente lo stesso sviluppo, ma portare avanti due progetti clinici diversi è estremamente costoso. Ok, lei va a doppie costi. E dal punto di vista di un investitore, chi glielo fa fa? Nel senso che, se funziona, lei basta uno delle due per far ricchi tutti quelli che vuole. Nel senso che, sapranno, di cronoscopia, che oggi, non so in Friuli, ma mediamente in Italia, ci sono dei 12 mesi a 15 mesi di vista d'attesa, è un investimento molto grosso nel sistema sanitario. Se trasforma una cronoscopia in un esame del sangue, è evidente il ritorno economico in tutto il mondo, è pazzesco. E lo stesso dall'altra parte, perché lei giustamente citava la trans-ecocardiografia, citava cose molto complesse. Quindi passare in biopsia liquida su queste cose, che oggi nessuno ci sta pensando, cioè non c'è i prodotti, è estremamente interessante. Quindi la domanda è, vista la complessità e il costo che, mi permetto di dire, mi sembra che i fondi non sono in grado di coprire la organizzazione clinica, qui ci vogliono milionate. E quindi duplicarlo su due processi forse può essere... Quindi l'unico suggerimento, non avendo le mette qui, il mercato è enorme, è talmente enorme per tutte le due, che lo sviluppo clinico, qui è costosissimo lo sviluppo clinico, perché dimostrare che questo funziona, sarà, qui parliamo di studi clinici con tantissimi pazienti, specie nel failo, e quindi, tra l'altro su pazienti, che va anche capiti come fa lo studio, quindi mi permetto di dire, molto costosi. E quindi la domanda è, come riflessione, forse è meglio, sono tutti e due mercati enormi, quindi non ho idea, in base alla tecnologia, a quella che sono più chance e successo, tenderei più, anche a un altro investitore, a focalizzarsi su uno, perché non c'è dubbio che i mercati sono grossissimi entrambi, quindi, non tanto lo sviluppo tecnologia, ma io mi aspetto, lo sviluppo dal prototipo, fino alla parte clinica, a quel punto sono cose assolutamente doppie, e quindi risorse doppie, e quindi forse questo è il commento, le posso fare, sulla tecnologia, quando l'avete, se l'avete presa al punto, eccetera. Stesso commento dall'investitore, è giusto che fino a che non avete risorse, di finanziare quei servizi, ma l'investitore vede i servizi come una diluzione di risoluzioni, una diluzione di attenzione, e quindi appena, quindi in una logica dell'investitore, i servizi no, perché i servizi, in questa fase le servono, e fa bene farli, perché ho capito, lei si sta finanziando in quella maniera, ma a un investitore non piacciono, perché hanno diluzione del focus, perché l'investitore ti dà i soldi, perché pensa che il tuo rischio valga la pena, e lui si deve preoccupare di darti i soldi per svilupparti, quindi i servizi vanno, quindi in un business model, tende a dire, i servizi sono una cosa opportunistica, attuale, assolutamente spiegabile, e che vedo fare spesso, però in una logica di pienificazione strategica, dice, io appena ho il fundraising che ha funzionato, io i servizi me li abbandono, oppure faccio una cosa separata, cioè, c'è un'altra società di servizi, e la start-up è focalizzata a sviluppare una cosa, e dato che io ripeto, lo studio clinico sarà, purtroppo è molto costoso, e lo sarà sempre più con l'area che tira, con le nuove regole autorizzative, anche in Europa, probabilmente sarebbe la discutere, in base alla tecnologia che avete in testa, dove ha più potenzialità di successo, perché entrambe sono sicuramente dei mercati interessanti, che si, grazie, puro commento, senza, se no, anzi, l'apprezzo tantissimo, benissimo, grazie, mi recupero dall'altra parte, perché piglio punti, quindi poi, ce la voglio dare io, grazie, no, non gliela posso dare, grazie mille Alessandro, mi permetto di fare i commenti, la logica appunto, da uno che, che fa l'investitore, quindi, anche per poi, ma quando farò la presentazione, magari vi faccio anche qualche cosa, un po' più organizzata, Allora, invito a presentare la sua startup, Olga Puccioni, CEO e cofondatrice di Optimense, una startup che opera in settori diversi, rispetto al precedente, ma che adesso Olga ci presenterà. Prego Olga. E vi parlo di Optimense, se questo mi assiste. Bene, Optimense è una startup innovativa, è una società benefit, con un background scientifico, e quindi lavora in un'ottica di ricerca e di sviluppo, lavoriamo negli ambiti della silver economy, delle life science e del digital health. La nostra mission è quella di misurare, monitorare e allenare il cervello, per una maggiore qualità di vita, soprattutto durante l'invecchiamento. Perché cos'è che ci preoccupa maggiormente nell'invecchiamento? Per due persone su tre, il problema più grosso di quando si invecchia, è non esserci più con la testa, quello che noi neuroscienziati cognitivi chiamiamo il declino cognitivo. Però attualmente solo una persona su dieci si occupa attivamente della salute del proprio cervello. E perché non lo fa? Perché non sanno come farlo. Quindi la domanda che emerge in realtà è come sta il mio cervello e come posso fare per mantenerlo giovane? La ricerca scientifica negli anni ha evidenziato che non c'è purtroppo una risposta semplice, ma va affrontata nell'arco degli anni e si basa sulla strutturazione di quattro pilastri fondamentali. Il movimento, l'alimentazione, la socialità e l'allenamento del cervello. Quindi sul mercato ci sono molte proposte che affrontano il problema e possiamo raggrupparle in tre macrogruppi. i tool digitali dedicati e veicolati dai professionisti clinici, le app di training cognitivo che sono verticali sul pilastro dell'allenamento cognitivo e delle nuove proposte di intrattenimento self-improvement principalmente online che si occupano dei quattro pilastri ma mancano degli aspetti quantitativi di assessment e monitoraggio. Quindi è evidente che c'è un vuoto, un mesotess, un giusto mezzo che noi vorremmo andare a riempire. Per questo stiamo alla fine dello sviluppo di Metis. Metis è la piattaforma che ti aiuta per mantenere giovane il cervello. Metis porta tre valori principali ai suoi utenti. Rileva i bisogni del singolo rispetto ai quattro pilastri e allo stato cognitivo. Guida verso le soluzioni più utili in maniera personalizzata e supporta e premia le scelte anti-aging. Come funziona in pratica Metis? Vi può accedere sia il diretto interessato che un familiare. Quindi dopo aver individuato il valore dei propri quattro pilastri e i valori del proprio stato cognitivo secondo alcune principali funzioni cognitive si ottiene lo stato attuale. Da questo l'utente guidato dalla piattaforma genera, programma il proprio piano di attività composto da attività che appunto vertono principalmente su uno o più pilastri. Ma Metis è anche una specie di Amazon intelligente perché se nel mio piano ho messo non so, un pilates, un integratore un piano alimentare mi guida verso le soluzioni che sono vicino a me o sono online quindi sono accessibili per me promosse da delle aziende partner. Tutta la jarne del zente all'interno della piattaforma e fuori della piattaforma è promossa dagli algoritmi di personalizzazione che si basano anche ma non solo su machine learning e dai meccanismi di gamification. Ah, non ho menzionato tra l'altro che tra i servizi che vengono promossi all'interno della piattaforma ci sono anche i servizi prodotti internamenti da Opinance. Quindi il nostro target sono principalmente tre sono i senior attivi e digitalizzati in cerca di soluzioni innovative ma anche i senior fragili. In questo momento sì. L'umore è molto più facile. Sì, 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 certo. I senior fragili che non sono digitalizzati ma da raggiungere attraverso i familiari in particolare i figli. E a proposito delle fasce più fragili a quello abbiamo dedicato il nostro primo MVP prima di realizzare METIS che è Telefonicamente ovvero una piattaforma in formato di SAS che serve a erogare training telefonici tramite teleoperatore in modo da periodicamente sottoporre la persona a un training cognitivo ma veicolato nella relazione sociale che ne potenzia gli effetti. Il nostro business model dunque si basa sul modello freemium della piattaforma METIS 365 e genera tre linee di revenue. Quella degli abbonamenti annuali delle versioni premium e le revenue dirette generate dai prodotti interni di Optimance come appunto il training cognitivo telefonico e per la parte B2B le fidi vendita dei servizi partner. Il mercato quindi italiano in questo momento della del benessere digitale del cervello all'interno della della longevity è enorme ma ancora molto acerbo quindi si identifica in generale un valore della silver economy italiana di duecento miliardi che poi possiamo restringere a un miliardo e mezzo per quanto riguarda la salute del cervello tramite digitale che noi stimiamo abbia questa portata perché sono oltre dieci milioni gli over 60 raggiungibili online appunto direttamente o attraverso i familiari e stimiamo che negli anni futuri centocinquanta euro l'anno mediamente convergano nella salute del cervello tramite il digitale. Noi puntiamo nei prossimi tre anni a raggiungere centomila di questi utenti. La nostra strategia go to market prevede per questi due principali target arrivarci appunto principalmente attraverso eh la comunicazione online ma di passare anche attraverso dei sistemi di partnership che per quanto riguarda gli anziani passano dalle catene di supermercati e centri di aggregazione come l'università della terza età mentre per quanto riguarda i figli si basano sulle welfare aziendale. Pensiamo veramente che possa interessare prima di metterci a fare l'MVP abbiamo fatto uno smoke test il smoke test consisteva nel promuovere su uno dei primi canali individuati quindi Facebook eh un un advertisement in cui si proponeva l'approdo sulla landing e i primi passaggi di quella che sarebbe stata la piattaforma quindi il primo questionario dei quattro pilastri. Ecco il 6% delle persone che ha visto l'advertisement è andato sulla landing e da questa landing il 12% ha concluso la call to action quindi il questionario portandosi a casa il risultato. Ma il 7% delle persone che è andato sulla landing non ha solo concluso il questionario ha lasciato volontariamente la mail non c'era il il risultato eh come controbilanciamento perché il risultato lo davamo a tutti ha lasciato la mail per essere ricontattato sugli sviluppi futuri di Metis. Ma Optimense non si limita a questo la fase dei servizi personalizzati per l'invecchiamento è solo il primo momento che ci serve sia a promuovere questi eh questi servizi ma anche a raccogliere la prima base dati che si evolverà nel tempo e è finalizzata a creare dei modelli matematici prima descrittivi e poi predittivi dell'invecchiamento questo ci consentirà di inserirsi in alcuni macro trend attuali legati alla longevity che partono appunto dalla salute digitale passando dal fashion support program fino ad arrivare auspicabilmente ai digital therapeutics come vi ho detto Optimense però è anche una società benefit e noi articoliamo la nostra attività intorno a sei principali obiettivi di sviluppo sostenibile che ci portano a individuare dei KPI di interesse in cui noi vogliamo aumentare la qualità di vita dei senior la qualità di vita delle loro famiglie e l'inclusività delle persone non digitalizzate al contempo puntiamo a ridurre il gender gap e la spesa pubblica in maniera diretta e indiretta tutto questo è possibile grazie al team che c'è dietro Optimense quindi eh ci sono io che ho un PhD in neuroscienze cognitive e un master in complex action e mi occupo di guidare Optimense Monica Belfiore è un'altra neuroscienziata dal lato più biologico è un master in trial clinici si occupa della ricerca e del sviluppo Valentina Mengarelli è un PhD in fisica e per noi si occupa dei dati mentre Dorina Stanculescu è esperta di comunicazione con un MBA alle spalle e si occupa di comunicazione e marketing recentemente a questo gruppo di founder tutta il femminile si sono uniti due Alessandri Alessandro Casu è il nostro CTO indispensabile per guidarci all'interno dei meandri dell'IT lui ha un'esperienza pluriennale in sviluppo dei prodotti digitali all'interno di grandi aziende e Alessandro Basile invece ci supporta nella gestione dei dati soprattutto da un punto di vista legale ed è proprio grazie al team che siamo riusciti ad arrivare con le nostre forze fino a questo momento allo sviluppo di questi primi due MVP quello di Telefonicamente e quello di Metis Metis vedrà la luce a febbraio duemilaventitré prima nella versione solo free e subito dopo in quella anche premium e a valle di questo ci aspetta un momento in cui di confronto del mercato di aggiustamento delle piattaforme e di progettazione chiamiamola seria della piattaforma finale pienamente scalabile ecco in questo momento avremo bisogno di un partner che ci supporti sia da un punto di vista economico che da un punto di vista strategico per andare avanti nella nostra strada di promozione dell'invecchiamento veramente attivo e quello che mi piace dire spesso è che Optimense affonda le sue radici in un paradosso quello che tutti vogliamo vivere più a lungo ma nessuno di noi vuole invecchiare ecco noi vogliamo trasformare questo paradosso in un valore il modello è pensato per gente con deficit cognitivi patologici o no solo per gente che non ha deficit quindi no Alzheimer no Parkinson eccetera allora il modello può aiutare nel caso delle patologie perché vorremmo arrivare a uno stato di assessment che sia comparabile non a livello clinico ma diciamo preclinico con quello che è un assessment cognitivo in modo di anticipare il problema cioè la diagnosi perché ad oggi non siamo proprio abituati a misurare lo stato del nostro cervello quindi si va a fare un'analisi clinica o per un risultato negativo quando non c'è bisogno oppure spesso si va tardi un po' perché non c'è la conseguenza anche perché alcune delle cose che nello schema vedevo come forme terapeutiche tipo il gaming eccetera sono le stesse cose che oggi lei fa sui primi giorni dell'alzambra eccetera in attento che non c'è cura dice almeno cerco di rallentare con lo sviluppo infatti una delle primi feedback che avevamo avuto anche dal primario della neurologia qua di Trieste mi arriva una persona e se ha una forma di demenza diciamo è tardi perché io ho in questo momento dei palliativi fondamentalmente e se non ce l'hai mi chiede cosa posso fare io li posso rispondere solo in maniera teorica perché poi non ci sono servizi veramente strutturati a cui io posso dare una risposta come me dico guardi faccia questo c'è questo jolly faccia invecchiamento attivo sì sì quindi è chiarito questo il tema è ovviamente un tema molto caldo un po' conizione di anche qui di molte start up in giro del mondo che stanno facendo cose di questa temperatura qui alla fine è molto importante quando avete il sistema che funziona vedere come l'effetto cioè nel senso quello che ha detto lei tra l'altro dice tra sei mesi ho il modello che funziona e va quindi provandolo perché qui alla fine i modelli sono simili a quelli che ha detto lei i modelli di business model cioè il modo come viene introdotto fra l'altro ormai cominciano a funzionare in Italia c'è stato recentemente un grande successo anche il fundraising per start up che ad esempio vendono servizi di psicologia con risultati io con l'aceo di io bravo che mi ha un convegno recentemente ma il contatto come è nato è impressionante i risultati che ho ottenuto perché in realtà ha risposto a un bisogno con una richiesta di un tema anche c'è per dire ma puoi andare a un psicologo eccetera tu usi la strap per decidere se ti può interessare e quindi poi come conseguenza lui ti indirizza da un cliente da un medico che fa parte del network quindi lì c'è la fonte di Reb in nostra società quindi ripeto questo risponde a un grande bisogno oggi aperto ci sono molti che ci stanno provando alla fine qui conterà molto la qualità del prodotto perché sarà molto competitivo e lì conterà il prodotto però se uno funziona meglio di un altro e poi come dicevo che c'è a lei i numeri sono talmente grandi c'è solo l'Italia che in fondo in genere il mercato italiano non giustifica quasi nessun investimento questo caso è così grosso che basterebbe il mercato italiano a pagare questo se diciamo avesse conto grazie grazie allora invito Pierluigi Dantrassi che è cofondatore di Sbrex sempre una startup sempre che opera nel settore dell'ambito assistive living del digital ma che sviluppa una soluzione per un diverso target a te la parola Pierluigi grazie buongiorno a tutti sono Pierluigi Dantrassi ingegnere informatico e clinico con un dottorato nell'elaborazione della disgrafia in Sbrex sono CEO e CTO a fianco a Giampaolo Dantrassi presidente nonché CFO laureato in economia specializzato in mercati e strategie di imprese esatto ragazzo la somiglianza e poi il cognome sombra di assomiglianza e cognome Yolanda Perrone responsabile del network clinico laureato in logopedia logopedista e già formatrice di operatori sanitari e insegnanti nei temi DSA in particolare della disgrafia con vent'anni di esperienza e Matteo Alteri consulente esterno per la parte di marketing e comunicazione Sbrex è una startup innovativa e società benefit è nata a fine marzo duemila e ventuno con la mission di sviluppare software innovativi per la generazione e benefici socioassistenziali e socio-economici valorizzando la ricerca scientifica attraverso processi di trasferimento tecnologico finalizzati al miglioramento della vita esempio nel nostro progetto di ricerca e sviluppo focalizzato sui bisogni educativi speciali bisogni che interessano oltre il 10% degli studenti per classe il 70% dei quali a disturbi specifici dell'apprendimento sia quei disturbi del neurosviluppo che compromettono le capacità di calcolo lettura e scrittura in modo fluente e corretto e vediamo come sia proprio la disgrafia il DSA ad aver fatto registrare più alto tasso di crescita in questi anni questo probabilmente è stato il motivo che ha spinto l'Istituto Superiore della Sanità a sottolineare nelle recenti linee guida dell'importanza dell'investire maggiormente per la definizione di nuovi standard e protocolli per la gestione di questo DSA linee guida che hanno gettato letteralmente nel panico i servizi dell'età evolutiva che fino ad oggi hanno sempre trascurato la disgrafia perché è ritenuta meno grave degli altri ma proprio per la presenza di strumenti compensativi e dispensativi ma soprattutto per la grande difficoltà nell'oggettivare la valutazione della disgrafia DSA che comunque al pari degli altri se trascurato non compromette soltanto la sfera formativa del ragazzo ma può avere ricadute sul piano personale psicologiche motivazionali emotive è una delle cause anche della dispersione scolastica nonché ricadute sul piano lavorativo in età adulta la soluzione di Sbrex consiste in un ecosistema di hardware commerciale e di software proprietario a supporto di tutti quegli attori coinvolti o quantomeno interessati nella valutazione e gestione del DSA a partire da app B2C per il diretto supporto di studenti con le loro famiglie e piattaforme B2B per insegnanti e clinici aiutandoli nell'identificazione precoce del problema e soprattutto oggettiva come accennato quello che fino a ieri era soltanto una nicchia di ricerca oggi è diventata a seguito delle linee guida un'esigenza di mercato noi abbiamo il vantaggio competitivo di avere già il know-how delle tecnologie atte a monitorare la grafia così come anche dei parametri di riferimento che abbiamo rilevato durante anche personalmente la mia ricerca seguita proprio qui all'Università di Trieste durante il mio dottorato questo ci permette anche di focalizzarci di andare oltre quindi unire questi che sono i dati della ricerca a integrarci con quelle che sono le informazioni provenienti dall'ambiente in cui il bambino vive quindi la famiglia la scuola così come i dati clinici per questo tutto il sistema è focalizzato fondato su lo standard HL7 Fire quindi parliamo la stessa lingua delle cartelle cliniche gestionari attualmente utilizzati nelle ASL e ancora andiamo a integrare quelli che sono i nostri algoritmi di intelligenza artificiale anche di machine learning in cloud per un'analisi anche in tempo reale della grafia il mercato possiamo dividerlo in due grande effette B2B e B2C le famiglie un mercato realmente ottenibile in 5 anni dal valore 125 milioni di euro andando a considerare le famiglie di quei ragazzi diagnosticati disgrafici interessati ad avviare una riabilitazione e soprattutto dotati di tablet parlando sì sì il 10% del DSA in Italia modello di business partiamo anche noi quindi da app quindi gratuite che sono fruibili non soltanto ai bambini con difficoltà ma anche e soprattutto per i normodotati ci interessa acquisire queste informazioni anche per questo prevediamo comunque delle app sempre disponibili gratuitamente per l'acquisizione del dato con la possibilità di attivare piani a pagamento per la riabilitazione o telemonitoraggio o integrazione con giochi didattici per quanto riguarda il B2B abbiamo il mercato realmente ottenibile sempre in questi cinque anni italiano di 61 milioni di euro andando a considerare le ore che i clinici andrebbero a risparmiare utilizzando i nostri servizi così come anche il servizio aggiuntivo di telemonitoraggio che potrebbero aggiungere unire ai propri servizi modello di business in questo caso comprende una collaborazione per la parte di validazione del prodotto fase che abbiamo già attivato in questi mesi con diversi centri clinici in Nord Italia eventi e pubblicazioni di settore dove ci hanno invitato anche l'ultimo importante l'Aeripa convegno più importante a livello nazionale legato ai DSA dove ci hanno chiesto proprio di intervenire in seguito alla lettura delle linee guida che sottolineavano anche come in Italia mancasse qualcuno che si occupasse di disgrafia ci è stato chiesto pur non avendo fatto alcuna pubblicità di intervenire e far sentire la nostra presenza in qualche modo e il modello di business soprattutto si basa anche su 5 campagne di crowdfunding e reward che faremo in questo primo anno che ci permetteranno di finanziare lo sviluppo ulteriore del nostro sistema la validazione e testing come ho detto è partita già da qualche mese e verrà conclusa appunto a fine 2023 contestualmente alla commercializzazione delle nostre app B2C e B2B insieme anche ai 175 mila euro provenienti dalle 5 campagne reward prevediamo di raggiungere così un break even nel 2026 come costi variabili abbiamo considerato principalmente i costi del cloud che ovviamente andranno a incrementare incrementando il numero di utenti così come i dati che andremo a inserire che andranno a popolare il nostro database fa bisogno attuale di 200 mila euro per il quale prevediamo un equity share del 10% e un exit strategy in secondary sale dopo 5 anni questo ci permetterà di assumere da subito 4 nuove risorse entro il 2024 per finalizzare l'ecosistema di app e come detto raggiungere quindi il break even entro il 2026 e ancora ci permetterà quindi di avviare il processo di certificazione del portale clinico come dispositivo medico e entrare prima appunto nei mercati esteri ricordiamo anche abbiamo in essere uno smart money che incrementerà il capitale sociale di 30 mila euro a fronte di un pari investimento e un pari incremento del capitale sociale e worst case quindi andiamo a considerare anche un investimento dimezzato rispetto al nostro attuale fabbisogno quindi un dimezzamento anche delle assunzioni questo ci rallenterà sicuramente lo sviluppo di tutto il parco software che ho mostrato dopo canzi e uno slittamento quindi anche con esso del break even voglio concludere la presentazione col best case quindi escludiamo la penultima slide e mostrando parte dei risultati che abbiamo ottenuto quest'anno ci siamo autofinanziati sviluppando dei software per cause farmaceutiche grazie alle quali abbiamo potuto quindi affrontare questo primo anno anche grazie al comune di Milano mi ho sviluppato il primo prototipo attualmente in fase di test per la parte di acquisizione dei segnali ed analisi ancora abbiamo registrato i marchi delle app che andranno sul mercato per famiglie e studenti abbiamo avviato diverse collaborazioni con centri clinici in Veneto Friuli Venezia Giulia Piemonte e Lombardia grazie per l'attenzione grazie per il legge ovviamente questo rientra in quel mondo ampissimo delle app di supporto a specifici problemi certamente ho visto un'app sui problemi della logopedia molto simile tema uguale un altro problema dell'infanzia ma qui e come sempre anche qui alla fine i modelli sono molto simili la partita e la qualità dell'app e poi in effetti il modo di introdursi che poi alla fine della partita è questa cioè trovare il modo di promuovere l'app e di entrare io non sapevo di questa nuova linea guida della stessa professionalità probabilmente questo ovviamente aiuta è chiaro che appunto voi siete in una fase molto iniziale infatti essendo poi uno sviluppo sostanzialmente software quindi non avete tipo il suo collega di prima il rischio dei costi clinici che sono ovviamente estremamente potenti qui è più qui è l'app che deve essere messa in circolazione trovare chi la usa e si decide che funziona quindi in questo senso sono investimenti che sono molto più limitati infatti è un obiettivo diciamo addirittura c'ha due scenari in base a 100.000 euro ripeto è una cosa fa parte di una famiglia molto sperimentata e ci sono una che funzionano benissimo e che hanno fatto grande successo ce n'è una marea e quindi come sempre la partita e se il prodotto alla fine si trova il cliente sia che sia B2B che B2C poi alla fine questi sono strumenti quasi vanno sperimentati anche qui sul campo è difficile di dire a priori con la proporzione della merito ovviamente la disgrafia che io sapevo che esisteva ma non aveva idea delle dimensioni probabilmente è un'idea originale perché con queste dimensioni che lei ha detto è un problema grosso perché non era la minima idea e quindi come tutti i problemi grossi è una soluzione tra l'altro che è una disgrafia l'articolo sui i laureati in giurisprudenza che fanno scrivono male le ecco ancora la magistratura che mi colpisce cioè i magistrati non sapevano scrivere le sentenze però se ho capito bene la immagina bene e poi quando la scrive la scrive sbagliando quindi tema grosso grazie grazie a te grazie per Luigi a questo punto lascia la parola io ci terrei io ci terrei a ringraziare molto l'ingegnere Fabrizio Landi innanzitutto per essere venuto a Trieste era tanto tempo che io ci tenevo ripeto mi spiace molto non essere lì ma quello che con con Fabrizio abbiamo un po' cercato di così ho un po' cercato di trasmettere è che questo va bene a un evento Panakes è partner ormai dell'urban center e ti ringrazio molto per questo ormai sono quasi 50 i nostri partner in un urban center quello che a me piacerebbe è che quello che oggi abbiamo fatto così con un evento magari con start up che potrai tu ritenere di volta in volta noi ti manderemo gli aggiornamenti delle start up che sono insediate quelle start up che tu riterrai interessanti da approfondire diciamo vorrai prendere un po' le tue entrambi prestigiose vesti sia come presidente di Toscana Life Sciences perché direi che anche su questo magari ci possono essere delle sinergie delle interazioni utili sia come presidente fondatore di Panaches mi piacerebbe innescare un confronto periodico costante grazie certo infatti adesso vi faccio una presentazione che è una presentazione molto grossa in realtà vi farò solo poche slide però ne ho preso una in cui cerco anche di darvi dei commenti visto che voi vi state affacciando al tema del fundraising come ragiona un investitore prima di iniziare due parole io sono un bioingegnere laureato ahimè molti anni fa col tecnico di Milano e nella prima fase della mia vita nei miei primi 30 anni mi sono occupato di impresa ho fondato la più grossa azienda italiana di prodotti medicali che insomma quando sono uscito io facendo quasi mezz'imattiva di fatturata con tre mili dipendenti che si chiama Esaote che è uno dei leader mondiali dell'ecografia se avete fatto un'ecografia al 30% avete usato una macchina Esaote e che si occupa poi è stato l'inventore di un segmento della risonanza magnetica quello per l'ortopedia con le risonanze magnetiche dedicate per gli altri quindi vengo da un'esperienza assolutamente industriale noi siamo partiti da zero negli anni 80 nel circa 9 anni fa 8 anni fa mi sono scopato di fare questa parte della vita mi sono appassionato ai temi dell'innovazione su due filoni quindi uno con un po' di difficoltà nel 2015 ho creato Panakes che è un SGR una società che gestisce il risparmio controllata la banca d'Italia da questa sigla EUVECA vuol dire che con le nuove leggi europee io sono autorizzato a cercare investitori che poi spiego cos'è una società di investimento non solo in Italia ma anche con la mia anche in tutti i paesi della comunità quindi io posso andare anche ho anche investitori non italiani senza dover chiedere all'autorità locale alla banca se vado in Germania a cercare un investitore non devo chiedere alla Deutsche Bank alla Bundesbank di qualificarmi altrimenti di qualificarmi Panakes è nata ovviamente nella mia fase culturale quindi si occupa solo di scienze della vita quindi è il più grosso fondo italiano piccolo sul chiave europea abbastanza grande italiano e soprattutto è l'unico che fa solamente venture capital nelle scienze della vita e di questo parlerò Elisabetta ha detto che faccio anche un'altra cosa che è la mia attività di innovazione questa in campo come si direbbe non profit e ce lo faccio come mia attività social che siete voi sono il presidente di TLS TLS è una fondazione privata ma con maggioranza di soci pubblici le sei università della Toscana le tre università generaliste le tre scuole superiori la regione gli enti locali e poi alcuni privati sostanzialmente Banca Montelipaschi e la polazione Montelipaschi che ha beneficiato prima che arrivassi io di grandi investimenti discutevamo con loro la differenza che io ho 10.000 metri quadri di laboratori ho una fabbrica per fare prototipi di prodotti biotecnologici ho uno dei più grandi animal center con 10.000 cavie quindi cosa rarissima per c'è una serie di tools che in un momento in cui c'erano tanti soldi dal mondo delle banche che oggi non sono più per quelli prima di me sono riusciti a costruire è un sistema di circa 650 persone di cui 27 start up 15 centri di ricerca è abbastanza grosso differente da questo a pagamento nel senso che le start up pagano un affitto in questo caso c'è il fatto che lo finanzia l'ente locale questo ovviamente è un fatto positivo qui come sempre il tema l'esperienza che probabilmente sarà anche un'esperienza che andrà fatta qui nel tempo e che voi qui ovviamente avete una sede logistica ma non avete i laboratori quindi c'è poi la tematica e tutti quelli che fanno ricerca escluso la parte digitale e in campo biomedico hanno bisogno di laboratori e di qualunque tipo noi abbiamo circa 30-40 milioni di impianti di attrezzature spettroscopia spettografia gs che ovviamente la start up non si può permettere qui c'è il grande tema di usare i laboratori universitari l'università come voi sapete appena voi uscite e dicono non ti diamo più i laboratori è un classico non è solo un premio reale di Italia però diciamo è una partita dato che mi diceva prima anche il vice sindaco questa forte focalizzazione della regione e del territorio tristino su questo campo oggi e lo vedremo adesso questo è un campo giusto nel senso che nello scenario del mondo dell'innovazione attraverso appunto questo processo la scienza e la vita sono sicuramente uno dei settori più avanti anche perché è in genere anticiclico per darvi un'idea l'industria della scienza e la vita che in Italia è importante l'Italia è il primo produttore farmaceutico europeo ed è il secondo produttore dei medical device quindi non è un raro caso in cui l'Italia è il primo e non è la Germania o la Francia tanto per parlarsi chiaro e questo fenomeno fa sì che è l'unico settore dell'intera economia italiana che dal dopoguerra non ha mai fatto meno cioè è l'unico settore dell'economia italiana che non ha mai avuto un segno meno cioè è sempre risciuto poco tanto è un settore con fortissime esportazioni faccio degli esempi c'è una fabbrica in Italia che produce da solo il 19% dell'insulina del mondo se quella fabbrica si ferma manca il 19% dell'insulina c'è una fabbrica che produce il 100% di alcuni vaccini se si ferma con la fabbrica manca in cose c'è una fabbrica ad Ascoli Piceno posto che per voi sia una bella città che c'è una singola fabbrica che essendo entrata nel giro dei processi produttivi dei vaccini covid nel senso che fanno i contenitori per il vaccino questa fabbrica ha decoplicato l'attività e oggi da sola rappresenta il 20% dell'intero export delle regioni Marche una fabbrica ad Ascoli Piceno e in alcune province italiane se i criteri istate di high tech dato che il farmaceutico è considerato high tech in alcune province italiane il 90% dell'export high tech di quella provincia è farmaceutico o medico di base quindi è un settore in crescita quindi siete in un posto giusto tutta l'innovazione va bene ma siete in un posto particolarmente giusto poi ovviamente è molto diverso quello che fate perché giustamente oggi abbiamo parlato di biosensori di protese dentali di app per applicazioni diverse una molto specifica l'altra più generale sul tema degli anziani quindi abbiamo parlato di cose di loro diverse però direi che è importante allora per avanzare questa giusto dove devo dire ecco scusate è in inglese ma tanto è da abituarci se dovete andare in giro per il mondo a cercare soldi dimenticatevi l'italiano anche se siete sono tutti italiani ma dovete abituarvi a scrivere in inglese allora cos'è Pana che è un SGR SGR è un SPA che è controllato dalla Banca d'Italia perché fa il mestiere di raccogliere soldi da investitori professionali quindi non raccoglie soldi tipo i fondi aperti quelli che andate in banca e comprate perché si chiamano fondi chiudi cioè sono fondi questo modello va in tutto il mondo quello che vi dico è un discorso italiano ma vi ritrovi in tutto il mondo vi permetto di farvi anche un po' di tici visto che vuoi andare a fare fundraising sapete come nascono queste cose un SGR è una stella di gestione del risparmio è regolamentata dalle direttive europee poi che diventano italiane il soggetto di controllo in Banca d'Italia nel caso nostro le SGR sono quindi dei soggetti che vanno a cercare investitori in genere creano dei fondi chiusi noi ce ne abbiamo due che hanno una vita si chiamano chiusi perché tu non puoi uscirne e non puoi e non puoi quindi mentre in un fondo aperto quelli che dati in banca tu compri un pezzo di un fondo ogni giorno in base al valore di dove hai investito c'è un valore se vuoi uscire vai lì e ti danno i soldi qui invece no gli investitori sanno che almeno per dieci anni non possono uscirne nel senso che ogni investitore si impegna a mettere X soldi nel corso di dieci anni i soldi non vengono messi subito questa raga ma vengono messi quando servono cioè ogni anno la società chiede un 2% perché deve fare il lavoro incontrare voi visitare eccetera ma quando c'è da fare un investimento chiede i soldi in quel momento e quindi l'investitore e c'è una serie di modi per evitare che un investitore faccia il furbo quindi perché ovviamente questo metodo si è sviluppato dagli anni 70 negli Stati Uniti e ormai è molto rodato in tutto il mondo le regole sono le stesse anche i vari paesi hanno le stesse regole è una cosa che qui un americano un inglese ragiona esattamente nella stessa maniera noi abbiamo un primo fondo che era un fondo il primo fondo fatto in Italia che c'è solo MedTech cioè le scienze della vita non farm è un fondo di 76 milioni che ha finito la fase di investimento cioè la fase in genere i fondi i primi 5 anni investono quindi i signori i signori che ti danno i soldi non ci mettono bocca nella gestione controllano però che tu non fai furbo cioè c'erano delle regole del gioco molto cioè il capitolato che ci controlla è una roba di 300 pagine che fa la felicità degli avvocati che contiene regole estremamente dettagliate di come muoversi dopodiché però la scelta la fanno i gestori quindi il fondo c'ha un team di persone il fondo MedTech aveva un team di tre partner e quattro cinque diciamo analisti livelli abbiamo fatto un secondo fondo che sta chiudendo che è il più grande fondo mai raccolto in Italia oggi siamo già a 175 milioni è un fondo molto importante che oltre a MedTech fa anche Biotech quindi fa a questo punto tutto ciò che ha a che fare con le scienze della vita quindi sia farmaceutica che digitale e medical device diciamo che questi sono un po' gli elementi principali perché questo settore è il settore intanto la storia se andate a vedere e questo dovete fidarvi di quello che dico io le analisi storie degli ultimi dieci anni è il settore che ha reso più soldi agli investitori insieme all'ICT cioè i due settori che hanno reso di più nel mondo e in Europa per il di settore è stato ICT e questo e soprattutto questo meglio di ICT è scorrelato grossomodo nei mercati finanziari mi spiego in questo momento i mercati pensate al Nasdaq è crollato non per tutto ma insomma è pesantemente redetto in questo momento invece stanno facendo transazioni ieri hanno visto una da 6 miliardi che ha fatto Roche l'altro hanno visto una da 3 miliardi quindi la fame per comprare tecnologie nel campo farmaceutico e nel campo medtech digitale è sempre alta quello che è venuto a mancare rispetto a solo due anni fa è l'opportunità di grandi valorizzazioni di andare in borsa purtroppo in me la borsa di Milano è semi asfissiata però ad esempio ci sono borse europee Parigi in particolare Amsterdam in particolare molto attive nel settore e poi ci sono la borsa americana per cui spesso ho visto anche start up italiane che si sono indirizzate verso borsa estera per una start up l'uscita dalla borsa credo che per il fondatore è più bello e che vuol dire che probabilmente l'azienda sopravviva potenzialmente può sopravvivere e non essere per forza fogocitata da una grande azienda che la compra i fondatori possono rimanere se ci vogliono anche dopo il passaggio ovviamente è molto complicata la mia azienda era stata in borsa è un processo complesso c'è un lavoro da fare in certi momenti è la soluzione giusta perché ovviamente voi dovete immaginare che non a livello in questa fase iniziale ma quando andrete a cercare soldi un po' più sostanziosi gli investitori come noi vi daranno molte regole del gioco c'erano dei patti parziali molto pesanti che gestiscono le fasi dopo quindi voi non sarete più liberi di decidere il futuro della società su molte cose ad esempio tipicamente che ne faccia sul medio periodo l'investitore entra perché poi vuol vendere e ricoprare soldi perché gli ha dato i soldi quindi il processo è che quindi verranno definite regole per a un certo punto scelgo di provare a vendere quindi vado a fare un context con aziende del settore grandi oppure provo ad andare in borsa e questo è una cosa che faranno però cosa importante siete in un settore molto ben messo perché perché ovviamente l'economica sono favorevole adesso qui inutile che entriamo nei dettagli ovviamente i bisogni della scienza della vita stanno apprecendo tantissimo poi ormai c'è tutto sempre più la tematica faccio un esempio estremo due settimane fa è stato provato un nuovo prodotto per una malattia rara ma non rarissima che è l'emifolia B prodotto singola dose sei guarito però singola dose costa 3 milioni 450 mila dollari a dose allora il sistema sanitario deve pagarlo o non deve pagarlo ragioniamo così nel sistema attuale italiano non te lo paga perché il sistema italiano il farmaco va nel conto dell'asle subito è una botta pensate 10-20 pazienti distruggono i conti di un'asle in termini di paese però ha un ragazzo di 20 anni che per campare spenderà tra trasfusioni a parte che questo poveretto sta male ma dimentichiamo l'etica della persona spenderà 200 mila euro all'anno finché campa probabilmente 3 milioni e 4 vuol dire che se lui dura più di 17 18 anni è contenuto lo dico molto dura però certi ragionamenti quindi è un settore e chi ha l'emifolia B se non si cura spenderà questa città qui muore malissimo e nel giro di poco tempo altro esempio sui ragazzi la leucemia fulminante 500 bambini morti all'anno in Italia la cura con la cartì una dose cartì le ASD la pagano 340 mila dollari ma un bambino di 5 anni vale 340 mila dollari dimenticati ovviamente io parlo per il sistema pubblico poi ovviamente lasciamo perdere il tema personale della mamma e del papà probabilmente vale perché quanto vale un bambino che muore oppure farlo campare però c'è tutto un ragionamento e quindi c'è tutta questa tematica che noi siamo in un settore con bisogni crescenti anche fortemente pagati dove ovviamente c'è un tema di sottofinanziamento tipico nei sistemi pubblici il caso italiano la sanità italiana sta peggiorando perché mentre quando è nata 40 anni fa il sistema sanitario la cifra che ci si investiva allora era importante col fatto che in questi 40 anni non ha seguito l'inflazione e pensate l'aumento del sistema sanitario del budget 2023 è meno della bolletta energetica di quanto hanno speso gli ospedali gli ospedali italiani hanno speso circa 3 miliardi di maggiori costi energetici e l'aumento del fondo è di 2 miliardi quindi come se il fondo fosse diminuito di un miliardo ed è così da anni quindi è sempre stata usata la sanità non aumentandola e di fatto oggi infatti oggi la società pubblica copre solo due terzi della sanità italiana un terzo la copriamo noi che andiamo dal dentista e paghiamo che andiamo dallo specialista paghiamo che tante volte perché non vogliamo aspettare i tre mesi di vista d'attesa e ripeto qui può andare meglio dall'altra parte ma la media è quella vado io a farmi un'ecografia tanto spendo un po' di soldi e un po' di più del ticket ma alla fine cioè alla fine si è creata e per il momento il sistema sta reggendo perché ci sono 40 miliardi aggiuntivi ai 120 dello Stato che ci mettiamo però c'è un tema e qui c'è tutto un tema anche organizzativo e quindi questo bisogna ripensare questi ragionamenti cioè se io dico cosa faccio spendere per una persona 3 milioni e mezzo per esempio ogni trapianto costa da 1-2 milioni ma se quella persona la curo prima magari anche se spendo 200-300 mila euro quando c'è stato il dibattito vi faccio questi esempi per capire quando ragionate sui business che c'è sempre anche la componente bisogna vedere non solo va visto il beneficio clinico ma anche come si inserisce nei giochi economici 7 anni fa esce una grande multinazionale che aveva comprato la start-up che aveva pensato fate conto che l'80% dei farmaci nuovi non le fanno le big farm sono tutte solo il 20% dei farmaci nuovi viene nelle aziende dei big il 20% viene da gente come voi che ha avuto l'idea ha trovato gli investitori che gli hanno fatto sviluppo e si è arrivato a un certo punto e poi vede questa start-up fu venduta per 5 miliardi tanti soldi però aveva messo a punto un farmaco che ha reso una malattia molto importante non più importante che è l'epatite C l'epatite A per esempio le epatite sono malattie gravi del fegato provocate da agenti esterni e stanno grazie a questo scomparente adesso infatti oggi il problema del fegato sono tutte le malattie provocate dall'alimentazione e dalle degenerazioni non più legate dalle epatite le epatite A per le B ormai non c'è in paesi come il nostro che una volta le malattie gravi che si trasmettono con patoggio non ci sono quasi più è certo farmaco e il farmaco il primo giro nel mondo costava 80.000 euro però col farmaco guarivi e non ti via più e tutta sta gente la gente che se andava male era destinataria di trapianto di fegato un milione e mezzo in processo quindi però di nuovo a chi la dò teoricamente potevano darla a due o trecentomila italiani l'Italia era un paese messo molto a male sulle epatite erano tra i posti peggiori d'Europa come diffusione di epatite e quindi i ministeri hanno scusato il problema poi c'è stata una lunga negazione anche perché scominciò gente dato che uno dei paesi di produzione era l'India in India non c'è i brevetti i brevetti non valgono in India però l'India per evitare di essere sommersa ha un accordo per cui i prodotti fatti in India a basso costo non li esporta quindi lei copia un prodotto se copia un prodotto lo può vendere solo in India e lo tengono e in India costava due trecento euro invece che 80.000 e si era creato un meccanismo in parte gestito anche dalla malavita che andava in India vista la differenza di prezzo comprava sta roba e arriva che è illegale addirittura che importava sto farmi in Italia era un reato penale poi alla fine hanno trovato un accordo adesso si paga 8-10.000 euro ma questo signore guarisce quindi ripeto non c'è l'aspetto etico questo sarebbe esserci ma non ha rischio di finire altro pianto che costa un milione quindi nei vostri ragionamenti pensate sempre questo che dico scherotti bisogni screscenti che possono essere anche costosi se nella macroeconomia generale questa cosa rientra e più ovviamente l'Europa è un posto abbastanza interessante Horizon è abbastanza generoso nel settore ci sono molti soldi Horizon o come si chiamerà adesso per il settore storicamente l'Italia ne piglia pochi ma questo è un limite nostro quindi c'è una quindi l'Italia addirittura ha più spazio noi mettiamo molto mettiamo più di quello che prendiamo quindi fare bene Horizon io l'altro giorno ho seguito una start-up che ha sviluppato una tecnica alternativa alla monografia per la start-up Umbra per la diagnostica al seno e con l'aiuto di Ocosia si è beccata a 7 milioni in due mesi di lavoro dalla comunità europea ovviamente perché oggi il tema della diagnostica senologica molto grave quest'anno aumenta di 20% le morti perché i due anni di pandemia sono saltati gli screening e quindi è saltata le sale operatorie quindi chi non è riuscito a entrare nel giro giusto non è stato operato e quindi una parte di quelli operati con una mezza di ritardo purtroppo hanno metastizzato eccetera quindi la Van der Leyen ad esempio abbassato l'Italia è ancora recepita da 50 a 42 anni l'inizio dei processi standard che in America sono adesso a 40 anni e sono stati abbassati a 30 anni di diciamo le mammografie preventive e perché l'Europa gli ha dato 7 milioni perché questo rispondeva a un tema in questo momento peggioramente è peggiorata la diagnostica senologica abbiamo visto subito le morti e quindi una tecnica che non usa la GX e quindi potenzialmente per usare anche le donne giovani è stato interessante che oggi invece non vengono misurate molte donne è stato interessante hanno i primi segni del tumore ma ovviamente una donna è stata interessante nella fase del primo anno con sparto non gli fai esami alla GX di tipo preventivo e quindi questa qui ha preso 15 quindicesimi e ha dato 7 milioni quindi se avete una buona idea 7 milioni devono fare 10.000 donne devono fare un test clinico ma è quello che dicevo prima voi questi hanno beccato 7 milioni per fare il test clinico 10.000 donne che saranno nei prossimi 24 mesi in 9 ospedali europei testate per vedere che la tecnica è uguale come effetti alla mammografia a questo punto questa è basata sulle microonde a bassa energia quindi non ha nessun tipo di effetto quindi sto dicendo guardate bene anche l'opportunità dei grenzi europei anche i grenzi locali ovviamente regionali eccetera però anche i grenzi europei quindi anche con il loro aiuto perché ci sono abbastanza soldi nelle start up nelle scienze della vita questo dicevo prima c'è chi ha investito in venture cap in scienze della vita è contento c'è stato ovviamente l'impatto dell'epidemia intanto ha cambiato molto le percezioni socio-economiche anche individuali per la prima volta nella storia dell'umanità è in corso una vasta campagna di auto-test a casa generica fino a prima dell'epidemia l'auto-test si faceva solo per categorie di pazienti più largo più famoso quello dei diabetici si testavano la glicemia 6% 3% della popolazione per il covid tutti noi abbiamo comprato le scatolette si facciamo in disambi a casa anche perché magari abbiamo il covid è meglio che non lo diciamo così evitiamo di beccarci gli obblighi ed è il primo esempio nella storia quindi chi ad esempio si è occupato di questo ha fatto pensate è un mercato che sta diminuendo molto ma il mercato totale della diagnostica in vitro quindi esami del sangue valeva nel 2019 65 miliardi nel 2021 è valso più 27 quindi 27 miliardi in due anni da zero non è mai successo è un fatto però da zero immaginate che è in quel mercato purtroppo è quasi tutto andato in mano a coreani taiwanesi cinesi questi hanno fatto quantità uno pensa alle mascherine ma il vero business non è stato le mascherine è stato i test eccetera eccetera ovviamente questo ha un po' anche cambiato l'approccio quindi oggi molti molti consumatori sono pronti a farsi dei test a casa c'era un po' di esperienza su test tipo mi compro il orologino vedo le cgi però di test del sangue se anche il promesso adesso qualcuno sta ipotizzando uno è pronto a bucarsi il dito il diabetico sì il diabetico è essere abituato però il diabetico ha la pressione forte sa che la sua salute è futura uno genericista io sto bene mi faccia le cose a casa invece di mi faccio il biomarcatore cioè mi estraggo il sangue del vostro test me lo faccio io e poi magari mando con la posta oppure arriva un po' di espresso come si chiamano a pigliare la prodetta c'è un fracco di lavoro qui dentro ed è indotto da covid c'è da covid da tutto il ripensamento quindi vi faccio questi questi concetti per dire che il post covid anche se il covid ovviamente si è molto ridotto però ha cambiato regole che vuol dire che si occupa di innovazione scienze della vita su opportunità ripeto non posso essere altro che generalista ovviamente è tornato di forza il tema che non era vera un'ipotesi fatta in tutto il mondo occidentale che per per così per buon volere nel buon dio le malattie la prima causa dei morti dell'umanità che sono le malattie patogeniche trasmesse per violare la prima causa dei morti dell'umanità 50% dei morti diciamo dell'epoca storica è dovuto a questo il resto è dovuto a trami o malnutrizione i famosi i 20 milioni di morti in Sud America comprese gli 80 mila soldati di Montezuma perché hanno vinto cortesco i 500 non perché i suoi 500 avevano i suoi fucili hanno 80 mila e che gli 80 mila sono presi soprattutto il morbillo non è la storia dice non è il vaiolo è il morbillo il morbillo non esisteva in Sud America il morbillo se non sei coperto da vaccinazione eccetera eccetera e in Europa invece ormai molta gente se era malata e chi era guarito perché specie se lo pigli da bambino non muori ma da grande muori e quindi il morbillo in Europa era una malattia importante ma non così è arrivato quello quindi qualcuno ha deciso nonostante che un secolo fa l'intera guerra mondiale ha fatto in Italia ha fatto 600 mila morti di cui molti da ste parti e i morti di spagnolo sono stati 3 milioni in Italia in quei 3 anni quindi ha fatto più molti io andavo a scuola e mi raccontavano dei 600 mila nessuno parlava della spagnola oggi il grande problema di contraria è stata la spagnola poi quell'asiatica degli anni 50 è dimenticata e poi ci siamo dimenticati e adesso se voi pensate che l'OMS è pubblicato nelle province del mondo la peggiore provincia del mondo come rapporto morti abitanti è Bergamo Bergamo ha avuto 10 mila morti sicuramente allora di cui 7 mila non sappiamo dove metterli i famosi camion sicuramente qualche camion è venuto qui a bruciare perché gli hanno deciso di tutti questi cadavere di cremarli e non c'erano i forni crematori sufficienti e io vi dico in Toscana sono arrivati 500 probabilmente qualche cento sono arrivati per dire cosa vuol dire cioè la peggiore provincia del mondo tanto è vero che l'aspettativa di vita di un bambino è scesa di 3 anni a Bergamo per l'invita è un dato statistico e quindi era 81 e mezzo nel 2019 adesso è 78 è pura statistica ma c'è stata una strada 10.000 morti quindi e perché e non il sistema sanitario che non è burundi perché il sistema sanitario che aveva annullato la medicina territoriale pensando che non serviva più tutto basato sulla medicina ospedaliera e tutta la gente che aveva i sintomi doveva in ospedale l'ospedale era il raggiuntore perché non se ne erano ancora accorti cosa c'era quindi c'era gente ammalata c'era il covid in giro tutti nei pronti soccorso e tutti si filavano il covid ed è quello che prima di capirci quindi adesso c'è tutto un cambiamento ovviamente il sistema occidentale si è reso conto che era sbagliato e qui c'è quindi io vi dico per dire i fenomeni che poi hanno in qualche maniera influenzato e possono influenzare l'ambiente in cui voi operate no? Allora noi è un classico venture capital siamo adesso siamo sei partner cinque italiani e un inglese poi abbiamo quattro se non è un po' di più collaboratori siamo tutti la maggioranza siamo ingegneri biomedici c'è un paio di medici oggi è un chimico quindi per dire la formazione tutta gente quasi tutti che vengono dall'industria più qualcuno che invece sin da quando si è laureato si è occupato di finanza vabbè questa è la parte che abbiamo di amministrativi ovviamente c'è un problema di competenza no? perché voi pensando a tutto uno ne sa abbastanza ma c'è un problema quindi abbiamo un po' di persone qualcuno tipo Sergio l'avete visto spesso in televisione su Sergio Abrignani il direttore dell'associazione dell'associazione di Milano è uno di quelli che raccontava il Covid ogni tanto qualcun altro alcuni sono industriali Massimo Mercati è il nostro legato di Aboc la più grossa azienda italiana che fa dal detto a Prato di Nutracentrica la prima azienda italiana fa 300 milioni di fatturato se andate a comprare un farmaco contro la tosse il farmaco più usato è il Notus che lo fanno loro che è di origine vegetale eccetera Maurizio Colombo è la mestre legato è il fondatore di Sappio la più grande azienda che si occupa di gas medicali eccetera Fabrizio Chines è la mestre legato di un'azienda siciliana questa azienda medica siciliana si occupa di prodotti per gli occhi quindi cose sono legati è stato la mestre legato del più grande gruppo al mondo di Alisi del gruppo Fresenius Rovati un'azienda farmaceutica ha venduto qualche anno fa per 3 miliardi a un gruppo svedese e adesso con questi soldi fa l'investitore eccetera Paolo è stato il capo per 7 anni del centro che il governo di Singapore ha deciso di ricreare per la genetica molecolare insomma gente che viene dal settore che ci aiuta sia dall'industria che dalla scienza che ci aiuta a fare ragionamenti vabbè ovviamente in questo mondo vedete qui c'è Bio4Dreams scritto da una parte non credo ci sia Urban Center questo non è tanto aggiornato insomma ovviamente è basato su network perché noi dobbiamo trovare dove ci sono gente come voi quindi che hanno idee che hanno proposte perché noi senza di voi non campiamo e noi dobbiamo investire ovviamente con attività come quella che faccio oggi io con altre cose ci siamo fatti un nome noi riceviamo tre proposte al giorno circa mille all'anno tanto è vero che da quando siamo nati ne abbiamo ricevute 50.000 scusami 5.000 da 55 paesi o 20 delle percentuali il 19% dall'Italia il 20 degli Stati Uniti il 12 dai paesi di lingua tedesca l'11 da Inghilterra sia l'Arabia ma l'inglese perché mettiamo insieme insomma 10 di Israele sapete Israele è uno dei paesi più produttivi in questo campo 9 della Francia eccetera eccetera vedete 61 MedTech Digital è dentro il MedTech e 39 è Biotech è una statistica abbastanza significativa perché sono tanti ora più o meno i nostri colleghi europei e americani in America c'è un po' più di Biotech direi in America è più 50-50 ma insomma sono più o meno i numeri che chi vi guarderà c'è in testa come funziona? da 5.000 abbiamo fatto 15 investimenti e nel campo ICT e qui stiamo quindi parlando di circa lo 0,3% in ICT è meno dello 0,1 in ICT con 5.000 faranno naturalmente tre investimenti in ICT gli arrivano anche 10 proposti al giorno perché gente ICT tutta il mondo delle app anche perché voi mi insegnate uno che ha un'idea si mette al computer e l'idea la può proporre in poco tempo poi l'idea deve trasformare il prodotto eccetera per dare l'idea come abbiamo lavorato in questi anni quindi 5.000 ci sono arrivati noi abbiamo una serie di metodi perché sarebbe se no ingestibile in cui facciamo una prima selezione noi una volta alla settimana ci mettiamo tutti tutti e 14 intorno a un tavolo e qualcuno dei nostri union ci presenta tutto ciò che è arrivato e valutiamo noi abbiamo una serie di criteri se rientra in questi criteri se non rientra diciamo di no ringraziamo ed è passiamo da 5.000 e da 3.800 dopodiché le 3.800 sono state assegnate in base a espertise come potete immaginare io vedo quelle del più di alto del mondo imaging quindi ciò che è imaging e poi per le altre attività vedo abbastanza quelle anche in campo vaccini queste cose qui è digitale ci sono i miei colleghi quelli si occupano più di cardiovascolare eccetera eccetera di questi 3.800 su 1.200 abbiamo fatto una due diligence di tipo però business non ancora due diligence di quella i conti cioè noi inizialmente e questo credo sia comune vi dico cose nostre ma che credo così imparate a vedere l'altra parte alla fine è essenziale quello che è espandere quello che ti ho raccontato oggi cioè qual è l'idea qual è la tecnologia qual è il mercato e cercare di capire dove siete nella vostra storia perché voi siete quasi tutti in una fase iniziale appena fatto la società l'ho fatta stiamo lavorando quella che noi chiamiamo seeding che non è tanto mestiere nostro è quella che noi chiamiamo feminine and friends cioè in questa prima fase tipicamente ci sono i soldi feminine and friends è un concetto molto ampio amici la famiglia e pubblico perché qui è importante i grants in questa fase i 200 mila euro i 2 mila euro scusate i 2 mila euro i 5 mila euro del premio cap un finanziamento dell'ente pubblico di una fondazione sono quelli che vi permettono di andare avanti oppure come fate voi vendete servizi per finanziare attività che sono i metodi perché in questa fase devi trovare qualcuno che se vi dà i soldi rischia tantissimo che ovviamente però lo fa di mestiere infatti appena dopo questa fase vengono i cosiddetti business angels che tipicamente in Italia sono tre network più grosso che si chiama Italian e anche Italian per il paese denominare ormai sono 200-300 persone gente che ha fatto tipicamente gente in genere che ha fine carriera gente che è in pensione e così via che ha fatto una carriera nel settore o farmaceutico o medicale e gli sono rimasti attaccati un po' di soldi non parliamo di persone che hanno decine di milioni come sono quelli che investono in noi ma sono persone che hanno un po' di soldi e che si divertono a giocarsi una parte di questi soldi invece che darli a una banca che proprio fa di rifluttuare cosa difficile oggi ci mettono una cosa però sono gente competente perché gente viene da lì e si mettono insieme loro diventano accomitati in base al segmento dove voi operate mettono i gente chi è interessato chi ha competenza sono quelli i prossimi vedete voi cioè quel tipo di figura che entra all'inizio però è già un professionista che però sono soldi suoi sono ancora soldi di terzi è però un professionista perché è gente che lo fa in maniera quindi hanno in genere dei team i aga un team di 3-4 persone poi si fa con i comitati degli associati sono soldi ripeto di chi vi vede già qui si comincia gente che vuole entrare in giro in costituzione di trazione perché vuole controllare quello che fate in maniera invasiva cioè nel venture capital gli investitori sono invasivi cioè non è come nel mondo gli investitori finanziari grandi aziende che uno entra guarda solo i bilanci e se le cose vanno bene il venture capital è un'azienda che non è cioè solamente perdite ovviamente ha solo costi a parte il caso vostro che è il vostro modello e quindi vogliono stare attenti con i soldi anche perché la logica è che io devo darti i soldi per un po' di tempo non ti do i soldi ogni sei mesi se credi in me mi devi dare i soldi e io per i prossimi due anni tre anni non mi preoccupo di soldi mi preoccupo di implementare quello che ho detto che farò se riesco a farlo poi ti chiederò altri soldi a te oppure faremo un altro aumento di capitale tornando a noi vedete che noi da 2070 in circa 45 casi il nostro organo interno che si chiama il tanto investimento ha deciso di investire perché poi da 45 diciamo solamente 15 perché quando puoi fare la due diligence profonda o trovi magagne di qualunque tipo oppure non ti metti d'accordo delle volte qui anche finisci illegale abbiamo un caso famoso Israele che è un posto bellissimo ma difficilissimo perché sono bravissimi e qui in maniera scorrettissima il CEO di un'azienda a cui abbiamo già fatto l'accordo quindi ci siamo scambiati lettere di coso probabilmente voleva un altro ha trovato un altro usando la nostra carta è molto scorretto infatti poi siamo andati in tribunale ci ha dato abbiamo ma alla fine ci ha arrivato 100.000 abbiamo speso dei soldi però alla fine per noi mi frega di quei 100.000 cioè è tutto il tempo che ci ho perso però questo può anche per capire cioè non è il mondo il mondo non è fatto tutto la gente come siete voi c'è di tutto in questo immaginario specie in multiple quelli che magari ne ha fatto due o tre di start up ci sono molta gente che ha fatto la prima start up specie in Israele in Stati Uniti ha fatto un po' di soldi poi ne fa una seconda poi ne fa una terza di questi 45 fino abbiamo fatto 15 investimenti quindi investimenti 8 in Italia 7 in Europa noi possiamo investire Italia, Europa e Israele questa è la regola del gioco che ci hanno dato i nostri finanziatori che fa parte di questo librone eccetera eccetera tantissimi nella vicenda mondiale quindi se io ho un tema di neurochirurgia vado da Alexandre Carpentier che opera il cervello a Parigi a Gustavo Sy che è il centro di neurochirurgia oncologica più importante in Europa e lui accetta di darci parere ovviamente abbiamo un accordo eccetera quindi abbiamo una rete di gente per il mondo cosa molto importante perché per quanto ne capiamo a noi a un certo punto può essere cose se io devo andare ad alcune cose vostre e poi alla fine a un certo punto ci vuole uno che ci dice o che guarda i vostri risultati preliminari e gli dice ma mi convince perché poi alla fine per quanto ce ne sappiamo noi c'è poi un problema proprio di avere l'utente in questo caso sono i medici l'altra cosa che abbiamo fatto alcuni dei nostri investitori sono aziende noi ad esempio abbiamo come investitori il più grosso gruppo farmaceutico italiano si chiama Menerini gruppo da 4 miliardi e mezzo 10 mili dipendenti ho citato prima Sapio gruppo da un miliardo rifatturato che si occupa di gas medicali e si occupa di cose del genere Petro Aboc ha detto prima quella che fa metriacetica Petro è il più grosso gruppo di gestione di farmacie Volteni un'azienda da 250 milioni che fa prodotti contro il dolore Elemaster è il più grosso produttore di Medtech per conto terzio e produce l'azienda sviluppa un progetto lui poi lo produce quindi è un è un è un cosa Rotafarma è quella che dicevo prima insomma quindi abbiamo un e quindi chiaramente i nostri investitori ci aiutano anche perché se io ho un tema di un farmaco sul controllo del dolore e questa è un'azienda Molteni che fa farmaci controllo del dolore loro sono interessati anche perché magari potrebbe essere che la startup stiamo guardando loro potrebbero interessare per una partnership quindi è un cosa del genere e soprattutto quello che abbiamo fatto abbiamo degli accordi di investimento con altre venture capital qui sono venture capital qui sono venture capital pazzeschi eh so fino a parte se è più importante in Europa è parigino fino a parte l'ha già raccolto 10 miliardi solo scienza della vita è il più grande fondo europeo di venture capital per la salute 10 miliardi ha 20 anni di storia ha investito di tutto alcune delle prodotti più importanti della medicina nascono con l'investimento eh Abbi è uno dei più grandi gruppi importanti americani Andera eh Roch è la parte del giocato di Rochil quindi vi dico dei nomi Fontena il più grosso investitore in eh finanziario israeliano Lift è italiano Genextra noi sono italiane ovviamente vedete questi qui sono cinesi quindi noi abbiamo creato un accordo quindi questa è tutta gente che ha fatto con i miei investimenti perché perché nel venture capital è abbastanza tipico che voi quando fate fundraise non chiedete non trovate uno solo lo trovate uno solo nelle fasi iniziali ma se a un certo punto arrivate un po' più grossi e dovete il classico cercare 10 milioni 15 milioni è difficile che uno solo abbia 10-15 milioni magari dovete mettere insieme due o tre di questi ci sarà uno che fa da leader tipicamente se siamo noi coinvolti in Italia noi facciamo sempre leader però se vado in Francia probabilmente mi attacco a Sofinovà o a qualcun altro bandera quindi abbiamo degli accordi perché è nell'interesse di tutti diciamo qui c'è Cassa Depositi e Presti che è molto attiva in Italia Neva che è la SGR del gruppo Intesa San Paolo quindi ci sono anche italiani importanti il concetto è di abituarsi escluso alle prime fasi che poi un domani dovete anche ragionare con gruppi grossi e ripeto anche se uno è un'operazione grossissima di 100 milioni di nuovo non troverai mai quella di 100 milioni sempre si divide perché in questo settore il rischio è molto alto e tutti vogliono avere posizioni di minoranza noi abbiamo un unico caso dei nostri 15 in cui siamo in maggioranza perché è l'unico caso che abbiamo fatto SIGIN è una start-up del Pro Tecnico di Milano che abbiamo deciso di fare un'operazione a poco più del livello che siete voi per capire che per noi è poco in generale in un'operazione mettiamo 7-8 milioni che è il taglio tipico di questa gente qui 7 milioni nella storia magari metti anche io sto cercando anche di darvi un po' per il vostro futuro tipicamente 2-3 milioni quando entri e poi ti metti da parte 2-3 milioni per aiutare perché tipicamente noi entriamo come si chiama serie A cioè tu fai la società poi fate dei primi operazioni poi a un certo punto fate un privo che si chiama serie A in cui entro ma poi è difficile che con serie A arrivi al punto in cui sei pronta di fare il tuo passaggio sia che ti vendi oppure vai in borsa a quel punto c'è la serie B poi c'è la serie C noi cerchiamo di entrare in serie A seguire mettere a parte i soldi per la serie B e entro la serie C uscire però c'è un esempio e noi siamo un tipico fondo mid stage cioè tipicamente che facciamo la fase le nostre 15 solo 3 sono sul mercato 12 non sono e le 3 sono sul mercato da non tanto poi ci sono quelli invece che fanno solo quelle già sul mercato che chiamano growth e che fanno la fase del mercato di crescita quindi finanziano più quasi la parte commerciale e le parti cliniche perché nei prodotti medicali mercato vuol dire regolatori FDA marchi che sono pesanti dipende dal prodotto ma possono essere molto pesanti per darvi un parametro la somma dei costi degli studi medici vale nel mondo 81 miliardi quindi c'è l'industria degli studi clinici vale 81 miliardi la cifra su 230 miliardi che è il potale dei costi della ricerca nel campo scienziario di cui 81 sono studi clinici quindi hai una idea i numeri che parliamo perché ovviamente è solo importante visto che prima ho fatto una domanda alla vostra collega no alzheimer che in questo momento è il settore con maggiori investimenti di sviluppo perché non c'è un farmaco e c'è una popolazione molto ampia ed è in questo momento il problema il problema degenerativo più grave dell'estensione che c'è al mondo occidentale siamo lontanissimi ci sono tantissimi studi e stanno tutti fallendo e Roche ha annunciato che ha fallito uno studio in cui c'è investito quasi un miliardo il titolo ha perso 10 miliardi in quel giorno in borsa e perché lì il giochetto è basato perché io il valore in borsa è anche legato perché se quel farmaco funzionava probabilmente guadagnava 20 miliardi il titolo no? cioè cosa vuol dire dire quindi studio anche perché ovviamente alzheimer sono studi complicati perché devi pigliare uno che non è perché nessuno ha in questo momento una cura ipotizzabile per l'alzheimer conclamato tutti quelli le cure si spera di bloccare lo sviluppo no perché poi insomma se qualcuno di voi ha base medica sa che l'alzheimer insomma quando a un certo punto è avvenuta la fase degenerativa dice niente la fa quindi a quel punto il problema deve fermarlo prima ed è un mercato con numeri potenziali pazzeschi tutti quelli della mia età in poi anche un po' prima probabilmente vorrebbero sapere se hanno il rischio di alzheimer e se c'è l'anno vorrebbero trovare qualcosa da fare per farlo quindi andando avanti diciamo quali sono i tre più importanti dubbiamente la robotica e senzolata la robotica e senzolata tanto è vero è stato a vedere la robotica chirurgica è il settore col mercato più ricco solo alcune cose farmaceutiche l'azienda che l'ha inventata che è un'azienda che si chiama Intuit che fa un prodotto forse noto anche a voi si chiama Tadici che è il robot ferocito fattura 5 miliardi ha un utile di uno ma vale 90 ora 90 volte l'utile in borsa è un numero da start up non è un numero d'azienda che fattura 5 miliardi perché fa un discorso senti sentite sentire il CEO che racconta gli analisti noi facciamo robotica con la robot meno dell'un per cento degli atti chirurgici nel mondo quindi il potenziale del mercato di fronte a sto messaggio è un'azienda per cento se questi arrivano solo al tre fanno per tre volte quindi ecco perché questa cosa la robotica che ovviamente perde il sviluppo anche perché la robotica chirurgica è l'unico campo della robotica importante in cui non c'è opposizione umana perché i chirurghi hanno capito la robotica è addirittura parliamo di democratizzazione perché il robot non si sottolinea il chirurgo semplicemente sottolinea i limiti del chirurgo il tremore delle mani il chirurgo che non vede più tanto bene quindi in realtà è sempre il chirurgo che opera ma opera con un intermediario che toglie il tremolio che permette ad esempio il chirurgo o certi robot di fare un'astomazione cioè chiudere un vaso da 20 micron scusate da 200 micron un chirurgo bravissimo giovane che non gli trema sotto il millimetro non riesce proprio un limite e no fra l'altro a livello se tu vuoi vedere a livello micro noi dato che il cervello lavora per sempre faccio un po' da ingegnere da retroazione noi se andiamo a spaccare la singolazione qui sembriamo normali in realtà è tutto fatto a darti un po' avanti feedback avanti quindi quando vai molto piccolo si vede questo limite che noi non siamo continui nel movimento a livello micro secondo ovviamente abbiamo parlato dell'invecchiamento dei malattie degenerativi ovviamente quindi che avranno hanno oggi una prospettiva molto più ricca del passato almeno in oncologia e in carriva scolare di nuovi farmaci legati alla comprensione della base immunologica di queste malattie cioè il tumore è una malattia immunologica noi le future cure saranno dei vaccini vaccini non preventivi vaccini per il concetto che intervengono oggi il 20% dei farmaci si chiamano immunoncologici che funzionano benissimo il problema è che essendo farmaci immunologici quindi non maneggiamo bene metà della gente non può andare avanti a usarli perché li vengono dalle malattie tremende immunologici che devono fermarsi ma chi non ha reazioni immunologiche funziona benissimo la terza cosa la più grande di tutti in cui c'è più movimento è il microbioma per il fatto che abbiamo capito che quella che una volta mia mamma chiamava flore intestinale ma non c'è più che viene chiamata flore intestinale in realtà è gran parte della nostra salute queste sono cose che sapete quindi le terapie basate sul microbioma e la diagnostica sono un grande cosa e ultima ci aspettiamo un aumento di sanità di genere cioè una maggiore la farmacologia fino a pochi anni fa è stata pensata per gli uomini adulti e quindi secondaria per le donne è assolutamente terziare per i bambini invece probabilmente c'è da ripensare la farmacologia la diagnostica è un po' probabilmente diversa ma la terapia probabilmente va ripensata ragionando in maniera proprio dall'inizio sul filone punto età e maschio femmine esempio col primo fondo che si occupava solo di Mertec abbiamo fatto 12 investimenti e vedete due in area chirurgica per vostra curiosità uno è un robot che fa interventi di microecologia soprattutto devi operare sotto il millimetro tipo quindi hai bisogno ad esempio di riattaccare capillari molto piccoli quindi il tema del post-traumatico tutta la ricostruzione del seno ad esempio dopo interventi di mastectomia anche anche la chirurgia oncologica Alessia fa un problema per dire di abbanare ma è molto interessante la paroscopia che è una tecnica che è una tecnica ormai diffusissima cioè quando voi non aprite l'addome ma inserite gli strumenti di chirurgica attraverso dei registri di troca eccetera tu per far funzionamento devi gonfiare l'addome quindi si inserisce un gas e si aggonfia l'addome un gas che permette di vedere perché tu dentro agli endoscopi se il gas fosse un gas che ferma la vista non funziona tu appena cominci a taglia-brucia scusate sono banale ma se siete là è stato abituato di essere un po' la medica taglia-brucia spesso si forma del gas se il gas che in realtà è il popore-acqua se il popore-acqua è eccesso diventa una nebbia e il medico non ve neve più niente oggi quello che deve fare deve sgonfiare e ricominciare come minimo una perdita di tempo poi il paziente perché il paziente è addormentato insomma non è il massimo questa è una start-up che sta nel Galles l'idea qual è stata ma se io con una piccola scarica elettrostatica faccio precipitare le goccioline di popore-acqua e quindi loro hanno fatto un device che si monta sull'endoscopio che quando si forma troppo gas una cosa elettrostatica quindi alta tensione bassissima un peraggio quindi non per così il paziente provocano il crollo delle goccioline quindi non c'è più il popore-acqua e quindi l'endoscopio qui non devono sgonfiare e questa capita sembra stupillata però sono gli unici al mondo a averlo fatto è coperto da il concetto di brevetto che è forte che è facile più una cosa è facile più il brevetto è forte se nessuno l'ha mai pensato alcuni dei brevetti che hanno pensato sono più difficili perché più una cosa è complicata più è difficile brevettarlo questo è il campo nel campo dell'agnostica in vivo abbiamo una società che si occupa di un tema che avete discusso che si occupa di migliorare l'efficacia della della cronoscopia il 15% delle cronoscopie vi sto raccontando per dare un'idea un portafoglio di un classico di sì che cosa quindi che c'è di tutto questa società cosa fa? il 15% delle cronoscopie si fermano perché il cronoscopio quando gira dentro l'intestino a un certo punto che è una cosa flessibile si può ingarbugliare e a quel punto non va più avanti e l'unica soluzione sfilarlo che vuol dire signor paziente torni domani no anzi domani tra tre giorni perché oggi la cronoscopia è la cosa peggiore non è dolorosa e i tre giorni di purghe e lungo tempo passato in bagno per prepararli alla cronoscopia per il momento di preparazione vedo la faccia beh sicuramente è un problema importante questi cosa hanno fatto anche qui idea è un è un è un medico di un ospedale italiano che ha avuto un'idea di se succede questo invece di togliere dato che all'interno del cronoscopio c'è un canale per inserire il bisturi per eventuale far togliere il polipo che hanno visto eccetera o per fare piccoli interventi di chirurgia io nel canale del cronoscopio inserisco un palloncino quei palloncini tipo quelli per togliere i cosi quando impunta lo riempio di un liquido ferromagnetico quindi rendo la punta cronoscopio magnetica e con un magnete da mettere all'esterno lo sposto e quindi proprio il prodotto è questo sistema e poi un magnete per quanto fatto bene una calamita che si mette qui e lui muovendo la calamita ritoglie ritorciogliamente quindi poterà quindi per dire anche cose non iper tecnologiche nel campo degli aspetti terapeutici ad esempio beta glue beta glue qual è il problema i tumori solidi alcuni sono più difficili ad operare ad esempio quelli del pancreas anche perché il pancreas la natura l'ha messo in un posto difficile quindi il chirurgo per arrivare al pancreas può fare molti danni comunque è difficile ad operare ovviamente c'è le tecniche radioterapiche che però su organi molto interni c'è il problema che fai tanti danni allora una tecnica che viene usata solo su cose molto particolari è quella di mettere dei semini presi radioattivi di cui tu conosci le mie vita quindi questo sarà radioattivo ad esempio per 72 ore per 5 giorni dopodiché finisce la realtà qui non è roba che rimane rimane pochi giorni sai quanto realtà genererà se io riesco a mettere nel centro del tumore solito lui si buccia il tumore io faccio proprio un conto quanto è grande il tumore so più o meno quanto brucio in base all'energia dopodiché quando questo è esaurito è una cosa inerte il corpo non gli fa niente e se lo porta nell'atomo il problema è portarcelo e soprattutto che non si sposti perché il rischio qual è il semino lo metti giusto poi con i normali movimenti dell'organismo si sposta di 2 cm non brucia il tumore ma ti brucia e quindi l'idea di questo questo è un chirurgo napoletano origine e quella di lo incollo cioè se io incollo sembra banale le colle ce le ho tutte le colle coso di orto quindi colle biologiche ci sono come faccio a incollare e quindi questo ha inventato un meccanismo che non è facilissimo in pratica una specie di catetere a due linee in una ci infilo il semino nell'altra ci infilo la colla e quindi si riviscono in punta in punta io metto il semino e metto la colla e quindi se ho messo la punta nel posto giusto rimane lì quindi sto accentuando il fatto ovviamente qui c'è un problema enorme clinico questi tutti i soldi stanno già bruciati a 10-15 milioni è tutta clinica per seguire pazienti fare pazienti perché ovviamente qui inizio bisogna trovare gente che sta molto male è chiaro gente che come in molte tutte le cose terapeutiche gente che sta molto male quindi accetta di fare qualcosa al limite tanto a questo punto c'è poco di vita quindi si rende più difficile l'analisi dei dati perché comunque opera su gente che sta male quindi magari muore ad esempio sempre in questo campo che si chiama Innovarte cardiovascolare voi sapete c'è il movimento di non fare più di interventi a cuore aperto per cambiare valvole cardiache intanto perché se lo fai la persona anziana ti muore per la macchina a cuore formosa e quindi storicamente chi aveva un problema di valvolare dopo 75-75 anni non si opera e quindi allora è stata avuta l'idea gli dice ma se io la valvola la immetto come faccio con gli stem cioè la immetto nell'arteria femorale poi la faccio risalire la faccio entrare nel cuore da diciamo attraverso la cosa ed è stata fatta per la valvola ortica che è la prima che trovi ma il mercato mercante poi c'è bisogno che è importante la valvola nitrale per chi ha un po' di nozioni di atomia quella fondamentale del nostro sistema e capite far arrivare lì una cosa complicata che devi tutto fare di cui devi tagliare quella che c'era prima tutto fatto a cuore battente perché non c'è la macchina a cuore polmone perché non hai aperto il paziente devi montare questa nuova è un bel casino questa start up che sta è italiana sta nel parco l'erexolidetti a Ivrea c'è un parco tecnologico i primi pazienti ovviamente sono in in Georgia non Georgia America Georgia però lo spiegano accettato sono tre pazienti di cui due campano da un anno e quindi è molto bene perché campando da un anno vuol dire questa è la gente che la mostra è chiaro perché lo devi fare su gente che uno prima di fare una cosa del genere che rischia e quindi per dire qui di nuovo la parte tecnica in questo caso ad esempio ragionando voi da start up la cardiochirurgia però il fatto che il momento in cui sei valorizzato è prima del commerciale non interessa il commerciale cioè se tu hai dei pazienti hai fatto pazienti umani anche pochi e questi campano perché stiamo parlando di gente che sta per morire e ovviamente c'è un po' di peco un po' di animali e così via a quel punto poi viene la transazione perché da per scontato la grande azienda che se ha funzionato sugli umani sono rimasti in vita per e così via e non cento dieci quindici accettate che sto facendo discorsi molto cinici ma è inutile che ci mettiamo a raccontarlo bene così quindi per darvi l'idea questo è un tipo di cosa e l'ultima di struttura non biochimica ma una struttura morfologica è in presenza della fase pre-iniziale dell'Alzheimer oggi avere un test del sangue dell'Alzheimer sarebbe una cosa pazzesca perché chiaramente tutta la gente se lo farebbe intorno ai 50 anni per dire c'è un test del sangue che ti dice che hai l'Alzheimer se loro avessero l'idea di fare un biomercatore per l'Alzheimer sarebbe il problema che oggi non è chiaro cosa cerchi perché non è così chiaro cosa cerchi come biomercatore questo gruppo ha lavorato e ci ha convinto con i loro studi e quindi praticamente il test poi è un test non difficile adesso è un problema complicatissimo la dimostrazione quindi adesso stiamo facendo coi dati prospettici cioè andiamo nelle banche dati del sangue dove ci sono ci sono banche in giro per il mondo che magari i pazienti oncologici che una volta ogni sei mesi li fanno un prelieve quindi hanno un signore che da 30 anni hanno il sangue tu vedi un certo signore se magari scopri che poi hai avuto l'Alzheimer e vai a vedere 20 anni fa com'era il suo sangue e compri micro gocce di sangue ovviamente quando l'hai usato è perso e ce n'è una famosa in Australia è abbia costosissima e quindi abbiamo testato che quindi gente abbiamo visto che in gente che poi ha avuto l'Alzheimer 20 anni prima c'aveva questa modifica di questa proteina questa la perdite sostanzialmente poi adesso la faccio troppo lunga tanto per darvi un'idea quindi ovviamente queste cose qui questo diciamo il fondo secondo come dicevo aggiunge al METEC la parte Biotech Pharma qui c'è qualche differenza noi nel METEC facciamo sempre i leader se possiamo nel Biotech che è più complicato tendiamo più a fare il co-leader cioè vogliamo uno più grosso di noi anche perché nel Biotech in genere i tagli sono più grossi nel Biotech perché l'istudio clinico è ancora più costoso i tagli sono da 10-15 in su e quindi qui noi tendiamo ad avere regole di gioco un po' diverse quindi abbiamo aggiunto quelli di prima il Biotech questi sono i primi impianti vabbè la Disco è la nostra prima Biotech questa qui è un gruppo tedesco che lavora su delle idee che nascono a Zurigo all'ITR al centro di tecnologia di Zurigo praticamente è l'idea che hanno sviluppato non entro nel dettaglio perché è complicatissimo perché questa roba è molto più complicata e questo ovviamente è più early cioè noi nel Biotech ci stiamo spostando più non in seeding ma a fare cose più più iniziali perché se no il taglio è troppo grosso per noi perché fare la nostra filosofia nel Biofarno vuol dire che un investimento ci mettiamo a 20-30 milioni che non è la nostra taglia quindi ci siamo per dire che poi quindi quando ovviamente tu ricercherete nella fase successiva ci sono anche tutti questi elementi ovviamente siamo ESG o mai ESG qualcuno vuole anche citato per noi è obbligatorio perché praticamente tutti gli investitori finanziari o perché ci credono o perché devono farlo per moda ci chiedono di essere ESG quindi noi abbiamo un ESG officer nella diudizio guardiamo in genere le start-up sono ESG perché sono poca gente ricercatrici voi non vi occupate non vi occupate di armi di queste cose qui quindi per quasi definizione le start-up sono sempre ESG compliant cioè adesso è proprio qualcosa di strano quindi per voi è facile però questo è un elemento qui lì ricordate lo dite lo sempre cioè cercate di studiarvi un po' la cosa affermare cosa che però è facile ESG comunque dato che è una condizione di investimento per ormai quasi tutti è meglio che vi preparate ripeto per una start-up non è difficile essere ESG per una start-up che si occupa di medicale un'altra cosa importante in Italia c'è una legge fiscale molto interessante perché invece in start-up questa è una cosa che dovete ricordarvi quando parlate chi mette i soldi nel vostro capitale ha uno sconto del 30% sulle tasse nel caso che è una persona fisica proprio quando paghi le tasse nel caso che è una società riduce l'impunibile IRS quindi questo è un fatto ed è un ai tempi io partecipavo alla scelta la legge quindi questa è andata avanti questo è un fatto importante perché l'esempio vuol dire in qualche maniera se io ti do un milione in realtà 300.000 ce li mette allo Stato ovviamente se tu paghi le tasse non è salvo che chi ti ha il milione paga le tasse perché il 30% in realtà lui lo recupera la tasse quindi che non è poco perché è uno che vi da mentre invece se lui vi migliori lo metti in una società normale nessuno lì da indietro niente quindi questo va usato anche perché direttamente con le persone fisiche ma anche con le aziende i fondi noi siamo organizzati con una complicazione per cui noi riusciamo a scaricare se io investo in una start up italiana per esempio questo qui è tipico italiano in molti altri paesi non c'è magari altri incentivi ma non c'è questo quindi cosa facciamo noi abbiamo fatto un meccanismo veicolo per cui quando investiamo in una start up italiana io come panache non posso avere il vantaggio fiscale ma lo giro ai miei settori italiani quindi io dico al mio settore italiano se tu hai messo il 6% del fondo il 6% del vantaggio fiscale te lo pidi tu io gli faccio una certificazione quindi questo si può usare anche quindi questo è un vantaggio per una start up italiana vabbè queste sono tutte niente direi che ti tenterebbe però questa era niente vediamo in dettagli inutili se avete qualche domanda mi hanno chiesto di fare anche un po' di racconto quindi mi sono messo anche a fare forse esagerato insomma però dato che le cose vi andranno bene come spero se arriverete alle fasi magari con noi con qualcun altro dei livelli più alti di investimento queste cose dovete abituarvi anche se le in testa vediamo se c'è qualche domanda io personalmente la ritengo molto utile perché è sempre bene sapere prima a quello che si andrà incontro è parte del piano strategico che una start up deve avere sapere fin da subito cosa dovrà affrontare negli anni successivi spero sia stato utile per le start up ricordo che come tutti gli eventi anche questo evento viene registrato e verrà la registrazione inserita nella galleria video dell'urban center che è una delle particolarità che emerge post pandemia è proprio la fruizione degli eventi eventi che generalmente vengono fatti nelle ore diurne quindi che non vengono seguiti pochi in presenza meno in remoto ma che se caricati in una piattaforma vengono le visualizzazioni aumentano nelle settimane successive cosa che immagino sarà anche per questo evento nel caso delle quattro che voi rappresentate sono tutte ovviamente un po' le ore linea oggi diciamo noi però uno degli accordi è quello di seguirvi quindi chiaramente quando nella vostra evoluzione vi tenete di essere appunto arrivati a un punto in cui ha senso parlare con noi come noi tramite loro che fa parte di queste cose qua credo che sia un'ottima opportunità per le start up del centro se non ci sono domande non so se c'è Elisabetta collegata se magari vuole fare un ultimo saluto ci sono ci sono ho sentito ho sentito sempre con molto piacere perché le considerazioni le riflessioni di Fabrizio Landi sono sempre estremamente importanti lo sono per le start up lo sono per noi stessi per Bio4Dreams e anche per l'attività che noi facciamo io spero proprio che ci possa essere una costanza di ritrovarsi e di ritrovarsi in Urban Center so che anche a Fabrizio come a me piace tanto Trieste quindi sicuramente ci ritroveremo lì ci ritroveremo qui al Mind e altrove e cercheremo di far crescere queste nostre start up per renderle anche interessanti per il nostro mondo di venture capital di cui indubbiamente Panakes rappresenta un punto di riferimento assoluto per noi ecco quindi io ringrazio moltissimo Fabrizio ringrazio gli start up e Marco Barbara Nicol i colleghi di BioValley del Polo tutti quanti che tutto l'anno lavoriamo per le nostre start up e per questi eventi che sono anche funzionali alla crescita allo sviluppo delle start up e vorrei fare gli auguri di Buon Natale a tutti ecco e estenderli a tutti quanti un grande abbraccio virtuale grazie auguri da Milano e da Trieste Mind e Urban Center uniti auguri a tutti ciao ciao Fabrizio grazie grazie di tutto ciao